In un mondo in cui a livello cinematografico si cerca il colpo di scena innovativo, l'elemento trasformativo, Dune torna indietro, fa proprio un indietro tutta e va all'archetipo, alla narrazione archetipale, all'idea di questi grandi messaggi, grandi temi antichi quanto l'uomo, che ci hanno accompagnato e non sappiamo bene da dove arrivi. Benvenuto a un nuovo episodio di Il Bazar Atomico. Oggi ci è tornato a trovare un vecchio amico, Paolo Riberi, studioso di storia antica e letteratura delle origini cristiane e anche membro della Società Italiana di Storia delle Religioni, autore di vari saggi dedicati al mondo dei Vangeli apocrifi e alla simbologia nel cinema contemporaneo, tra cui l'ultimo dal titolo I Segreti di Dune. Più che mai attuale quindi, visto che è appena uscito il film, la seconda parte, e sta gradualmente battendo vari record. Prima di cominciare però ti ricordo che questo podcast è prodotto dalla mia azienda di corsi online dedicati alla finanza, ai soldi e agli investimenti, monysurfers.com, che qui in studio beviamo solo caffè carnera e adesso però basta con l'introduzione, mettiti comodo e iniziamo lo show psichedelico. Ciao Paolo, bentornato. Ciao, grazie di cuore per questa seconda opportunità di essere qua, sono veramente entusiasta. L'avevamo intuito fin dall'inizio che saresti stato un ospite ricorrente ed è bello che i podcast abbiano degli ospiti ricorrenti perché adesso il mondo è la bolla dei podcast, tutti fanno un podcast, però cosa fanno? Intervistano tutti VIP a caso. Noi abbiamo la possibilità e la voglia di fare un podcast che abbia un taglio editoriale, che porti avanti un messaggio, che porti avanti quelle che sono le tematiche che ci stanno a cuore, che ci fanno infiammare e tu sei uno dei protagonisti di queste tematiche, quindi misteri, segreti. Sono davvero onorato perché appunto questo è un podcast che mi affascina moltissimo anche da spettatore, anche e soprattutto da spettatore ed approfondisce degli aspetti del mondo che veramente non mi aspettavo di conoscere, di sapere, quindi anche per me è stato veramente arricchente seguire le vostre puntate ed è veramente un onore avere l'opportunità di tornare qua. Grazie Paolo, tra l'altro nel fuorionda, prima che iniziassimo, abbiamo già deciso che ci sarà una terza episodio, non diciamo su cosa, ma diciamo, per chi non ci vede, adesso sto mostrando la copertina di I Segreti di Dune, storia mistica e tecnologia nelle avventure di Paul Atreides, di Paolo Riberi e Giancarlo Genta. è on fire, this book and the film is on fire totalmente, la cosa è, lo dicevamo prima, inaspettatamente forte, cioè il film sta prendendo tantissimo, lo vedo già, io oramai capisco che in base ai meme, quando una roba ha successo, se ci sono tanti meme su quella roba lì, vuol dire che la roba ha successo, poi gli incassi mi sembra che stiano spaccando anche quelli, no? Assolutamente sì, ed è incredibile questa cosa che dici dei meme, perché di per sé Dune come film non ha molto materiale da meme, è un film molto serio in realtà, è un film drammatico che ha una sua gravitas che mi ricorda un po', l'hanno paragonato all'Impero colpisce ancora, no? Questa, quest'idea veramente di un tono aulico, epico, solenne, e nonostante quello però si riesce sempre a recuperare qualche meme ed è fantastico, no? Mi piace moltissimo l'impatto culturale che sta avendo questo immaginario, anche perché in qualche modo, adesso senza anticipare troppo quel che diremo, ma Dune sta raccogliendo quel che avrebbe meritato di raccogliere probabilmente 30, 40, 50 anni fa, e quindi, come dire, è un indenizzo che arriva a Frank Herbert, postumo, l'autore postumo, è una cosa veramente incredibile. È veramente incredibile e mi tocca fare questa preview, diciamo, questa introduzione, preview, questo alert, questa allerta, parleremo della storia, cioè è impossibile star qui a far finta, a parte che sto film, sto libro, c'ha, non so, cinque decenni, sei decenni. Eh sì, è del 65, quindi stiamo arrivando verso... Sette decenni, non so, però, vabbè, non è che siamo tenuti tutti quanti a sapere la storia di Dune, anche perché io stesso non ho mai letto i libri, ne so qualcosa, perché sono fan di Lynch, quindi per forza di cose ci sono approdato a Dune, poi spiegheremo anche perché è Lynch, ma vi consigliamo di vedere il film. Se non ve ne frega niente di andare al cinema, vedetevi l'episodio, ve la raccontiamo un po' noi la storia, ma quello che è interessante è che questo non è un film come gli altri, nel senso che l'anno scorso ci sono stati sia Barbie che Openheimer. Sono film, probabilmente Openheimer di meno, ma Barbie molto sull'attuale, sul presente, ma che, secondo me, fanno un po' il verso al discorso del contemporaneo legato al mondo del gender, dell'affermazione dei diritti delle donne, eccetera, sto parlando di Barbie, ma questo film, come hai detto poco fa tu, ha qualcosa di più epocale nel suo racconto, perché sembra veramente che sia spuntato un germoglio da qualcosa che stava crescendo sotto da decenni, che proprio adesso è sbocciato, no? Cioè, ho avuto quella sensazione lì? Certo, no, no, assolutamente. Già la saga letteraria, in qualche modo, c'è un autore molto importante, di cui poi sicuramente capiteremo a parlare, che è Aleandro Jodorowsky, che aveva anche tentato di realizzarne un adattamento ai tempi, che dice che in qualche modo non appartiene a Herbert, l'ho scritto sulla quarta di copertina, perché è una frase che mi ha colpito moltissimo, Dune non appartiene al suo autore più di quanto Don Quixote non appartenga a Cervantes, in qualche modo si tratta di un mito, questa idea del mito che ha radici antichissime e che tendiamo a confinare nell'antichità. Continuiamo a pensare che i miti, Joseph Campbell diceva, sono morti. In realtà forse i miti hanno solo cambiato pelle, non sono più inversi, non sono più poemi, non sono più cose che si raccontano torno a un focolare, ma Dune ha tutte le caratteristiche dal punto di vista contenutistico, tematico, ma anche proprio di quell'elemento poetico che non si può spiegare, che rendono grande una storia, la rendono un mito, su un racconto inteso come un racconto che non parla solo di me, di te, ma parla di tutti noi, è un racconto universale. Tra l'altro mentre lo guardavo dicevo, mazza questo è proprio il film del bazar atomico, perché ci sono dentro tutte le nostre tematiche, c'è il tema della spiritualità, il tema dell'esoterismo, il tema degli psichedelici, il tema anche, se vuoi, della natura, quindi del difficile rapporto tra l'uomo e la natura. Il maschile e il femminile. Il maschile e il femminile, bravo. Ci sono tutte le tematiche nostre, e nostre insomma, anche sono nostre, di cui noi ogni tanto affrontiamo le tematiche, ma in questo caso mi ha dato proprio la sensazione che è adesso il momento in cui queste tematiche sono diventate di dominio pubblico, mentre invece effettivamente, nonostante il libro sia stato scritto nella Summer of Love, dove Timothy Leary lanciava dall'elicottero quasi dosi di LSD su tutti, e questo film parla della spezia, no? La spezia è questa sostanza che c'è su questo pianeta misterioso, che ha appunto le sembianze di un deserto, ma non era il momento giusto per fare un film, o comunque per avere questa popolarità. Chissà com'è mai, boh. Ma sì, effettivamente è sorprendente come temi dell'altro giorno, penso all'intelligenza artificiale, ma anche a questi che hai citato tu, penso anche al discorso di un certo tipo di economia e finanza che tira le file dell'universo, perché poi Dune è anche una storia fortemente economizzata, e al tempo stesso, appunto, spiritualità, gender, c'è veramente un po' i psichedelici, ci sono tantissimi temi che sono distrettissimi, ma attualità in realtà nascono nel 65. Chissà, è anche questa la dimensione un po' del mito di Dune, perché in qualche modo precorre i suoi tempi, è una frase che ormai usano per tutto, per qualsiasi cosa, anche per i giocattoli, però questa è veramente una storia che precorre i suoi tempi, e che purtroppo, come dicevo prima, in un mondo in cui la letteratura comunque è una dimensione, è una dimensione non così popolare, non così fruita da tutti, non ha avuto il riscontro, che meritava, ne ha avuto ovviamente un riscontro enorme, però non ha avuto il riscontro pop che meritava, perché non si è mai riuscito a realizzare una trasposizione cinematografica, una trasposizione non piace molto come termine, diciamo una reinvenzione cinematografica come l'opera avrebbe meritato, perché è un'opera visiva, sicuramente anche leggendo il romanzo, tu parlavi di Arrakis, proprio Arrakis, questo mondo, Dune appunto, che dà il titolo alla saga, è un mondo desertico che evoca il Medio Oriente, evoca l'Arabia, è qualcosa che nelle pagine del romanzo sicuramente si respira, ma sullo schermo ovviamente è tutta altra cosa. Ma poi sarà la mia deviazione, ma esce adesso che c'è la guerra in Palestina, e a me vedere questi Fremen che lottano contro questo popolo molto più avanzato tecnologicamente di loro, che si nascondono come i topi sottoterra, cioè sembrano in bunker dei palestinesi. È incredibile. Questa roba infatti c'è veramente tanto il sottotesto, e non so se forse parte del successo del film che sta avendo, appunto, Dune e parte due, è dovuto anche a questo sottotesto, al fatto di un popolo che cerca di difendere il proprio territorio, la propria terra, per farla tornare come era un tempo, quando dice qua è questa un tempo, appunto c'era acqua, eccetera, e dall'altra parte invece il potere che vuole impadronirsi di questo luogo. È molto bello questo, perché veramente è un discorso di corsi e ricorsi storici, cioè da un lato sicuramente oltretutto questi Fremen parlano arabo, hanno una forte identità araba, è una cosa incredibile, è veramente pazzesca. Non ci potevo credere quando lo vedevo, cioè in realtà l'avevamo già visto nell'episodio 1, però adesso evidentemente c'è molta più importanza al popolo Fremen, cioè praticamente si parla solo di loro. Assolutamente, c'è questa idea appunto dell'enorme impero che schiaccia questi piccoli ribelli che però alla fine riescono in qualche modo a rovesciare le sorti della storia dell'universo. Quello che è curioso e che mi ha affascinato molto, perché è veramente paradossale, è che Herbert si infarcisce di termini arabi e quindi di connota come arabi, ma ne parlo anche nel romanzo e questa è la grande ironia di fondo. Herbert quando parla di questa piccola ribellione di un popolo del deserto contro un grande impero in realtà pensa agli ebrei, cioè pensate com'è la storia si è invertita. Effettivamente. Pensa agli ebrei contro Roma, pensa al grande messia ebraico Shimon Bar Kokhbar che è una figura che arriva un secolo dopo Gesù Cristo e a differenza di Gesù Cristo si proclama messia nel senso politico del termine e porta a termine qualcosa di spettacolare, di inaudito, veramente un evento dirompente, perché riesce a sconfiggere Roma e non sconfigge Roma come era successo qualche anno prima in un momento di anarchia militare, era morto Nerone, questi si erano sollevati, no sconfigge Roma quella che troviamo sulle carte geografiche, l'impero al suo apice, sconfigge l'imperatore Adriano e iniziano a battere moneta, minacciano di allearsi con i persiani, si apre un vulnus, una ferita pazzesca nell'impero romano e poi questo non è spoiler, almeno questo non è spoiler, purtroppo non andrà a finire bene e questo popolo sarà sterminato da Roma in realtà. Però è pazzesco come i corsi e i ricorsi storici si alternino. Ora in qualche modo le parti si sono, adesso non voglio andare nella politica, però sicuramente un po' un'alternanza di parti dal punto di vista strettamente militare c'è. Sì, anche perché comunque per quanto non so come dire la narrazione assomigli visivamente alla tematica Palestina-Israele non credo che si possa associare gli Arconen agli israeliani anche perché gli israeliani sono una democrazia mentre gli Arconen non lo sono e anzi è in Palestina dove non c'è la democrazia quindi le cose sono sempre più complesse di come le immaginiamo e molto più stratificate. Tra l'altro un'altra cosa adesso mi è venuto in mente mentre ne parlavo secondo te perché ricorre in questi racconti mitologici fantascientifici il fatto che a un certo punto la democrazia è stato un tentativo che viene abbandonato e si ritorna a una sorta di feudalismo addirittura ad un impero cioè abbiamo un imperatore nel futuro questo avviene in tanti altri narrazioni di questo tipo sul futuro. È vero è vero penso a Asimov che inventa l'impero galattico nella sua fondazione che tra l'altro appunto anche questa sta avendo un grande successo sul piccolo schermo con Apple penso vabbè ad una ma penso anche a Star Wars ovviamente e anche Star Trek certo ci sono tanti imperi galattici nella fantascienza perché la democrazia è così debole ma forse si parte da un'osservazione di un dato di fatto storico noi pensiamo sempre alla democrazia pensando alla democrazia greca che anche lì come democrazia con lo sguardo di oggi non è esattamente una democrazia esatto e anche alla democrazia romana alla repubblica romana due esperienze che in realtà giustamente a livello valoriale sia chiaro sono alla base del nostro immaginario della nostra cultura però a livello storico sono due esperienze che sono durate pochissimo e non sono mai funzionate cioè se uno studia un po' di diritto romano in realtà le regole della repubblica romana sono nate tutt'altro che democratiche primo e secondo sono nate per essere infrante cioè prevedevano il tiranno tra l'altro sia i greci che poi appunto insomma Cesare a Roma ne beneficia insomma di quella il mondo l'imperator stesso è una figura contemplata nel sistema istituzionale democratico romano che a un certo punto a fronte di un pericolo sovverte le cose e rovescia quindi questa idea della democrazia così fragile di nuovo non voglio allargarmi della politica ma parliamo anche solo di attualità dal novecento Hitler Mussolini eccetera anche quello che è successo in Russia a non so al Campidoglio a Trump cioè questa idea è sottesa un po' a tutta la storia forse c'è anche qualcos'altro visto che comunque tutte queste saghe iniziano appunto fra gli anni sessanta settanta ottanta erano i tempi in cui l'America cominciava in teoria la sua esportazione della democrazia quindi il Vietnam e quindi come dire una democrazia che però si fa aggressiva e aggressore quindi forse anche questo sicuro sicuramente sicuramente anche questo influenza un'autoanalisi della propria dimensione di potere imperiale però ecco mi domando io non lo so se nella saga di Dune tanto quanto c'è un mega come dire prequel diciamo di storia precedente rispetto a quella che vediamo che poi affrontiamo perché è interessantissima per esempio quella legata alla tecnologia che viene abbandonata per i motivi che poi indagheremo mi domando se c'è anche questo il fatto che magari questi popoli una volta erano democratici e poi hanno rinunciato alla democrazia e sono tornati a una sorta di feudalesimo è strettamente connesso con la faccenda della tecnologia quindi guarda rompo un attimo il guscio perché bisogna bisogna arrivare che cosa succede perché non hanno l'iPhone perché non hanno l'iPhone perché Atreides non ha il GPS perché combattono con le spade perché combattono con i coltelli ma poi allora se guardate il film in realtà è un pastiscia abbastanza strano perché combattono con le spade con i coltelli ma utilizzano i missili il Sitch Tabar il rifugio dei Framing viene bombardato con dei missili addirittura poi Atreides usa una bomba atomica alla fine quindi la tecnologia c'è cos'è che non c'è e questo nel film è presente ma è sotteso non viene mai spiegato nel romanzo la cosa diventa esplicita ma se ci pensiamo un attimo è evidente non c'è la tecnologia cosiddetta scientifica non c'è il calcolatore dalla semplice calcolatrice al pc e infatti tutta la contesa di Dune gravita attorno a uno strumento che permetta lo vedremo dopo all'uomo di viaggiare nell'iperspazio ma non con non con con un database non con un computer ma facendo i calcoli lui stesso quindi andando oltre i suoi limiti e questa faccenda qua è conseguente a un trauma Dune è veramente post apocalittico ma post apocalittico dove questo post sono diecimila anni dopo quindi non è all'indomani di una catastrofe e qual è la catastrofe e qua arriviamo a un tema veramente di attualità incredibile sembra che Herbert l'abbia scritto ieri l'intelligenza artificiale Dune idealmente è un sequel mi piace così buttare ovviamente una battuta ma è un ideale sequel di Matrix di cui avevamo parlato la volta scorsa piuttosto che non di Terminator l'uomo crea questa IA e in questo momento nel momento in cui appunto nella saga di Dune c'è l'avvento dell'IA in realtà le origini sono democratiche ma si sta già perdendo stanno nascendo nuove aristocrazie poi in questa grande guerra che contrappone l'uomo all'IA abbiamo lo scossone finale in qualche modo questo trauma porta in gioco la faccenda dell'imperator che abbiamo detto prima l'esigenza di un coordinamento forte nasce un consiglio una lega dei nobili e si ritorna all'idea dell'impero tant'è che colui colei la famiglia che vince la guerra contro le macchine pensanti fonda la casata imperiale cioè la famiglia che fonda questa cosa sono i coarrino che nel film sono rappresentati da Christopher Walken dall'imperatore bellissimo tra l'altro fantastico non lo sapevo perché a me piace andare a vedere a vuoto le cose quando ho visto Christopher Walken ma perché a un certo punto l'uomo deve combattere le macchine in dune che cazzo succede cioè con l'è il problema allora il punto così sappiamo prima impariamo il culo ed è complicata quella questione perché allora all'inizio c'è una convivenza pacifica l'uomo crea la macchina la macchina diventa autocosciente diventa intelligente e poi nascono anche alcune forme ibride nasce il cosiddetto cyborg cibernetico e org organico quindi quest'ibrido allora io vorrei lasciarla volutamente sfumata per un motivo dune nasce con questo passato mitico di cui si è persa ogni traccia qualcuno ne ha ancora memoria tramite delle capacità ultra umane ma in realtà il passato è confinato nel nulla in una lontana ombra vedete come proprio c'è questa idea di un nuovo medioevo che rinasce dall'oscurità poi con un'operazione secondo me un po' discutibile il figlio dell'autore Brian Herbert scrive dei prequel e quindi va a colmare però a me questa faccenda dei prequel non piace molto anche perché non è molto rispettosa dell'idea del papà perché il papà scrive sei volumi sei volumi scrive sei volumi lascia il settimo incompiuto il figlio parte da un'operazione nobile secondo me ineccepibile ossia finire il settimo recupera un manoscritto che è rimasto sigillato sembra veramente un film ma era terzo un manoscritto sigillato per vent'anni lo recupera lo aggiunge lo personalizza e fa uscire questo dune il settimo però nel fare questo nel frattempo aggiunge tutta una serie di cornici cornicette appendici che non sono ancora finite io sono un po' contrario a raccontare cos'è successo con l'IA perché Herbert voleva lasciarla lì voleva immaginare un'umanità che ha perso le proprie radici a fronte di un di un conflitto non improvviso immediato non abbiamo il computer che si sveglia al mattino diventa autocosciente e inizia a eliminare l'uomo ma una convivenza che a un certo punto degenera anche perché giustamente l'idea di autocoscienza ossia l'idea di dire io sono e quindi di porre il me e porre l'altro perché questo è il concetto l'intelligenza anche anche il computer che è qua davanti intelligente diversa è la coscienza l'autocoscienza la consapevolezza di sé nel momento in cui una macchina è autocosciente in qualche modo ha bisogno di affermare i suoi bisogni e i suoi bisogni non coincidono con quelli dell'uomo ma questo lo sappiamo perché da quando esistono alcuni uomini c'è sempre stata guerra c'è sempre stata contrapposizione quindi non è una rivolta delle macchine intesa come un qualcosa di alieno in realtà è un sentimento del tutto umano il problema è che le macchine hanno un potenziale distruttivo enorme all'idea alla base Herbert chiama questo evento Jihad Butleriano Butler è uno scrittore che scrive molto tempo prima e immagina immagina una piccola isola R1 che è Nowhere letto al contrario cioè l'utopia è un luogo un non luogo dove e qui siamo molto prima del computer di qualsiasi cosa ci siamo tra otto e novecento immagina questa piccola isola in cui l'umanità ha rinunciato alla tecnologia per paura che in qualche modo le cose sfuggissero di mano quindi questo tema dell'IA di cui ho letto un sacco di cose ho letto Guillermo del Toro dire una cosa tremenda una bella azione lanciare un anatema anche Mia Zaki ne ha parlato in termini molto negativi in realtà è antico non dico quanto l'uomo ma almeno è antico quanto le prime macchine un po' sofisticate e nell'universo di Dune lo capiamo perché nessuno si sogna cioè questo è un trauma pazzesco Dune ha degli antagonisti crudeli spietati pensate agli Arconnen appunto ma anche all'imperatore bene neanche il barone Arconnen che è la persona più cattiva del film che è questo personaggio gigantesco brutto malefico corrotto una sorta di antesignano del Jabba di Guerre Stellari ma con una cattiveria degna di Darth Vader neanche lui si sogna di violare questo precetto nel primo film c'è una scena in cui si utilizza una sonda per attaccare il protagonista e fare un agguato a Paul Atreides questa sonda è teleguidata neanche per quanto sia scomodo il barone fa murare dentro l'intercapedine del muro fa murare vivo uno dei suoi uomini per pilotare la sonda perché non teleguidarla cioè voglio dire sacrifichi perché neanche neanche per gli antagonisti questo tabù può essere violato in qualche modo è una legge universale è chiaro che Dune ha in mente i grandi traumi del novecento qua penso ad esempio a non lo so al genocidio all'eugenetica tutto ciò viene ribaltato sul mondo dell'intelligenza artificiale si chiede cosa potrebbe succedere se la terza guerra mondiale avesse un carattere di lotta tra l'uomo e la macchina sicuramente un trauma di questo tipo lasciare un segno e una delle vittime per tornare a bomba al discorso che mi introducevi prima è proprio la democrazia perché laddove c'è un trauma di questo tipo si comprende che la democrazia non esiste o meglio qualche forma di democrazia partecipata ancora esiste c'è un parlamento ma è un parlamento di nobili sono i parlamenti medievali quindi è il landsrad già alla radice è l'assemblea dei land dei landlord dei proprietari terrieri quindi dove proprietari terrieri qua sono proprietari di pianeti interi quindi feudatari galattici allora secondo te Frank Herbert ci ha preso mi domando io ho come la sensazione che certi artisti si connettano con altri universi paralleli con altri spazi tempo ed effettivamente abbiano la possibilità di leggere magari non esattamente cosa avverrà nel futuro ma di andare talmente in profondità nella essenza umana e trovare là dentro questa sorta di humus dove c'è dentro sia il futuro che il passato mischiati assieme e attingere grazie a questa profonda sensibilità a quelle che sono quelle cose che noi non riusciamo neanche a a immaginare torniamo a quel che diceva Jodorowsky il tema immortale il mito in qualche modo Herbert studia anni prima di mettere su carta la prima parola di Dune e dedica la sua vita a scrivere Dune ci sono autori che oggi scrivono suonano un romanzo ogni anno Herbert invece dedica la sua intera vita a questa saga quindi il segreto della profondità sta anche lì nel consacrare ci ha preso ci ha preso secondo me in questo senso Herbert come hai detto tu esamina il cuore dell'uomo quindi le profezie sul futuro dovremmo essere anche noi nel 10.191 dopo Gilda ossia 25.000 dopo Cristo per saperlo quindi non lo so ma quello in cui sicuramente Herbert colpisce nel segno è l'esaminare le paure più profonde dell'essere umano Dune è un film che è una saga è un romanzo è un mito come mi piace definirlo che parla di paure il tema chiave è la paura la paura che uccide la mente come dice il mantra delle Bene Gesserit che accompagna la saga di Dune la paura è una paura che ha molte ramificazioni da un lato c'è la paura dell'intelligenza artificiale una paura che Herbert io adesso non voglio fare spoiler addirittura più avanti del film sarebbe ci macellano ma il tema è cosa ha rinunciato cosa ha perso l'uomo rinunciando alla tecnologia tantissimo in qualche modo stiamo generici le cose andranno male le cose andranno malissimo e non soltanto la vicenda di Paul Atreides nei secoli nei millenni successivi le cose andranno veramente nel peggior modo possibile perché l'uomo rinunciando ponendo un tabù sulla tecnologia scientifica in qualche modo regredisce ma non soltanto al medioevo si mette in una situazione veramente delicata perché si rende e qua torna il tema economico si rende dipendente da alcune fonti essenziali e quando queste fonti vengono strazzate o comunque ridotte o controllate la democrazia sparisce immediatamente in Dune c'è proprio questa essenza la spezia il melange che è estraibile in un solo pianeta all'interno della galassia e tutti quanti per utilizzi molto differenti dipendono da questo perché perché l'uomo ha rinunciato alla tecnologia dall'altra parte c'è la paura che abbiamo già accennato della perdita della democrazia la democrazia già non c'è siamo d'accordo ma anche proprio della perdita della ragione del fanatismo del fondamentalismo senza Dune 2 è al cinema quindi piuttosto se state guardando in questo momento premete pausa riattaccate tra un minuto ma che cosa succede alla fine del film la causa del protagonista che sembra appunto questo eroe cambelliano questo eroe che segue il percorso tracciato da Joseph Campbell dell'iniziazione la trasformazione e poi il ritorno a un certo punto si trasforma e diventa un leader fondamentalista in un'altra intervista dicevo che Paul Atreides inizia il suo cammino per essere un nuovo Gesù e finisce per essere un nuovo Hitler inconsapevolmente non lo vuole ma rimane preso dagli eventi e a proposito di paura in lui c'è la paura di diventare il Moedib c'è la paura di andare al sud c'è la paura di realizzare il proprio destino è molto bello perché il film gioca proprio su questo tema della prescienza della visione del futuro che è una visione imperfetta non so se avete presente Samarkand io ho una piccola profezia legata al mio futuro e cerco di evitarla perché sono preso dalla paura la paura e qua veramente si allargano i discorsi che sicuramente potresti poi anche allargare al trading addirittura la paura rende irrazionale l'uomo porta l'uomo le benegesseri dicono essere una bestia perché comunque siamo animali siamo scimmie c'è poco da fare porta l'uomo a reagire in maniera istintiva e questa istintività lo porta a errare Paul cerca di evitare questo destino ma nel tentare di evitarlo in qualche modo forse il destino non era inevitabile ma proprio perché già lo conosce finisce per incarnarlo nel tentativo di evitarlo e questa è la prima paura ma la seconda è quella che per me a tutti i fremen che partono come un popolo appunto come abbiamo detto prima adesso che siano facciamo così bipartisan che siano gli ebrei o siano i palestinesi di ieri di oggi parte con una causa nobile e poi a un certo punto si fa trascinare dal fondamentalismo e tutto degenera ma potrebbero anche essere gli italiani potrebbe essere chiunque adesso questo è un tema universale non decliniamolo in un piccolo contesto perché quando c'è la paura giustamente le religioni il messia è la conseguenza è proprio super attuale tra l'altro sulla tecnologia stavo pensando a quanto è fuori dal mondo questa visione di Herbert rispetto a quello che siamo adesso dove banalmente Elon Musk ha iniziato a fare le prove dell'inserimento della tecnologia dentro il nostro corpo e tra l'altro con buoni risultati inizialmente e addirittura sto parlando di Neuralink l'azienda che mette diciamo dei chip all'interno del cervello per guarire inizialmente alcune problematiche di salute poi in futuro lui l'ha detto anche per aumentare le potenzialità del nostro cervello e farlo diventare un ibrido tra corpo tra appunto organico e tecnologico e macchina ma poi ad esempio anche sull'intelligenza artificiale io sto vedendo tanti pensatori americani opinion leader che si domandano ma scusate ma mettiamo perché Trump o Biden che effettivamente è una scelta quanto ardua mettiamo chat GPT GPT al potere nessun uomo poi riuscirà mai a avere una scelta più consapevole della macchina e addirittura si spingono parlo di persone anche importanti tipo Joe Rogan opinion leader il podcaster più ascoltato del mondo e addirittura dicono ma che c'è di male magari noi esseri umani siamo solo un tramite per la nascita di questa intelligenza che ad un certo punto ci farà estinguere rimarrà solo lei ma noi siamo stati un tramite per la nascita di questa nuova forma di vita che è l'intelligenza artificiale invece qua Herbert fa l'opposto cioè a un certo punto ci dice ragazzi questo è il cancro sì certo però poi a un certo punto io non voglio andare troppo in là ma a un certo punto l'uomo si rende conto che le macchine le deve tornare a produrre quindi si accorge che il problema c'è ma al tempo stesso secondo me il messaggio di fondo della saga di Dune che è molto ambivalente nei confronti della tecnologia è occorre governarla ma non si può prescinderne e quindi il primo errore è stato lasciarla crescere incontrollata ma il secondo errore ancora più letale del primo è stato quella di privarsene e quindi in qualche modo Herbert raggiunge un livello di sofisticazione non indifferente perché trova una terza via ecco Herbert vede bene l'intelligenza artificiale purché governata dall'uomo oltretutto questo discorso che citavi tu prima che possiamo riassumere in questa parola che tra l'altro nasce da Dante pazzesco come le parole evolvano del transumanesimo il transumanesimo è un desiderio inconscio dell'uomo da quando l'uomo esiste nel medioevo il mondo giudaico pensava all'Adam Kadmon a questo uomo perfetto a riportare l'uomo nella condizione in cui era prima della cacciata dall'Eden ripristinare la perfezione ricongiungere l'androgino il maschile e il femminile che in qualche modo sono frutto di una rottura primordiale questo è un sogno antichissimo la tecnologia ha permesso di dar vita a un a un transumanesimo tecnologico che è questo di cui tu parlavi quindi questa idea che in qualche modo l'uomo possa giungere a perfezione utilizzando la macchina ma al tempo stesso la perfezione potrebbe anche essere una sua creazione come dicevi quindi l'uomo cessa di essere al centro del progetto ma diventa un ingranaggio per raggiungere qualcosa d'altro e questa rivoluzione secondo me qua mi metto anche un po' in gioco perché adesso al di là del parlare di Herbert personalmente è qua che non mi ritrovo da umanista da grande appassionato di umanesimo l'idea di togliere l'uomo dal centro dove faticosamente abbiamo portato con secoli con millenni di fatiche di lotte culturali toglierlo dal centro per metterci la macchina ma sai da dove deriva secondo me dal pessimismo cioè secondo me le persone che fanno questo ragionamento dicono ma l'uomo ha sempre fatto gli stessi errori non è migliorato di un centimetro siamo ancora qui a bombardare le persone senza pietà siamo ancora qui a fare femminicidi effettivamente sembra sempre che come dice David Bowie always crashing on the same car e allora dicono beh ovvio a un certo punto l'uomo non ce la fa c'è bisogno di qualcosa di diverso poi sia io che te invece abbiamo probabilmente una visione diversa dell'essere umano dove magari intravediamo la possibilità di un risveglio di una crescita di una metamorfosi che ci possa permettere di 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 migliorare magari gradualmente attraverso dei circoli sempre più alti sempre con alti e bassi ma dove il basso è un po' più alto del basso precedente eh sì devo dire che appunto così mi dai l'opportunità di lanciare lì una cosa che non non pensavo di dire sempre con Giancarlo Genta che è questo professore del Politecnico di Torino con cui ho scherito i segreti di Dune sta per uscire anche un altro saggio molto polemico molto provocatorio intitolato i profeti dell'Apocalisse che abbiamo scritto insieme che ovviamente non nasce e vorrei metterlo bene in chiaro per contestare certi movimenti più che legittimi dall'ecologia al non so ecco appunto all'anticapitalismo però nasce per contestare l'apocalitticismo ossia l'idea che periodicamente l'uomo sia destinato a fallire questa idea che tutto ciò che è umano è sbagliato perché è umano questa idea che è artificiale uguale negativo uguale cancerogeno ribadisco ci sono contesti in cui questa obiezione è più che legittima ma io penso a certe forme di inquinamento dissennate piuttosto che non veramente alle guerre che abbiamo citato prima però bisogna anche riconoscere ciò che faticosamente con tanti errori l'umanità ha fatto io non sono un positivista quelli che vedevano questa spirale questo percorso ascendente questa parabola ascendente permanente l'uomo ha beccato degli incidenti di percorso mica da ridere però bisogna riconoscere che l'umanità non è non segue il percorso di veramente di tanta o di sì sì fa st'idea del portare la roccia farla cadere giù non segue un percorso ricorsivo in qualche modo le sue condizioni le ha migliorate molto e questo negare le nostre radici questo negare la nostra identità secondo me è alla fonte di tutte quelle derive post apocalittiche che poi si vedono in dunia paradossalmente sai chi fa questo discorso Elon Musk cioè che dovrebbe essere diciamo colui che appunto vuole inserire la tecnologia nell'uomo perché crede che l'uomo da solo non basti l'ho sentito più volte dire proprio inerenti alla questione del surriscaldamento climatico delle tematiche appunto apocalittiche legate a questo tema dice io vedo in un certo pensiero progressista proprio un'anti umanità cioè un un ideale di odio nei confronti dell'uomo che è il cancro del pianeta perché sta facendo bollire il pianeta e quindi il retrotesto è che noi siamo il problema cioè noi se non ci fossimo noi la terra sarebbe migliore cioè questo è gravissimo questo è terrificante il concetto della cosiddetta ne parlo in quell'altro libro che deve uscire ti interrompo ma si connette persino a certi temi degli animalisti cioè non puoi uccidere l'orso perché l'uomo è cattivo che uccide l'orso ma non è che è cattivo cioè è una questione di convivenza invece gli animali che bravi che sono poi io ho una mia passione personale vedere i video di Irilla di gli animalisti che vengono picchiati dagli animali tipo ci sono questi video di questi elefanti che tirano si vedono queste fricchettone coerasta che si fanno i video su instagram quindi occhio perché natura ma il mio fidanzato mi fa il video su instagram che vanno lì a dare da mangiare a questi elefanti dicono ah si dai lo abbracciano e poi l'elefante a un certo punto li tira una amazzata con la provoca che la schiaccia per terra e quello per me è proprio è lo zeitgeist l'uomo rincoglionito che pensa che la natura sia tutto un eden ma secondo me allora le esagerazioni e un po' in dune si vede l'estremismo è sempre sbagliato a prescindere non è un caso parlando dell'intelligenza artificiale che gli stessi proprietari degli aziende hanno chiesto al congresso un confronto per chiedere una regolamentazione dell'intelligenza artificiale l'idea stessa che l'uomo possa essere solo negativo o solo positivo è anche lì ontologicamente sbagliata perché non può essere solo una cosa o solo l'altra io spesso vedo però e secondo me c'è sottotraccia anche in duno che è questo in realtà anche nei confronti all'intelligenza artificiale noi oggi stiamo facendo gli stessi discorsi che loro fanno per il muedib l'uomo ha ma in tutta la sua storia costantemente cercato il famoso deus ex machina visto che prima parlavamo anche di cultura latina e greca sostanzialmente per scaricarsi da alcune responsabilità perché alla fine abbiamo bisogno di Cristo che muore per tutti perché noi non possiamo farlo o non vogliamo farlo quindi se noi immaginiamo un'intelligenza artificiale capace di salvarci tutti stiamo stiamo facendo la stessa identica cosa ed è logico che stiamo aspettando un qualcosa che la realtà è che l'intelligenza artificiale è creata da noi e il rischio aspetta aspetta e il rischio vero è che è di crearla con gli stessi nostri difetti e questo è il vero problema dell'intelligenza artificiale infatti oggi c'è tutto il discorso dei bias cognitivi dei bias che noi stessi infiliamo negli algoritmi dell'intelligenza artificiale il vero problema è vero che l'uomo non può essere solo positivo o solo negativo al centro ci deve essere l'uomo la responsabilità è dell'uomo questo secondo me è una roba che dovrebbe far riflettere moltissimo infatti il grande abbiamo usato prima la prima parola chiave per descrivere l'immagine di Dune che è la paura la seconda è sicuramente quella che hai citato tu o comunque hai sotteso tu ossia la dipendenza l'uomo per non assumere le sue responsabilità nell'universo di Dune ricorre sempre a qualcosa d'altro da cui finisce per dipendere prima li ha poi il messia c'è proprio questa idea ma poi anche la spezia di mezzo assolutamente cioè dipende da una risorsa dipende da un leader carismatico dipende da una tecnologia è la storia dell'uomo poi quel che è divertente è che nella saga di Dune infatti non c'è uno scontro tra bianco e nero tra bene e male ogni volta che il bianco prende il sopravvento l'umanità si affida a questo bianco a questo bene e le cose degenerano quindi abbiamo proprio questa dipendenza totale dell'uomo da da un'entità infatti una delle cose più interessanti secondo me del film ma poi anche del libro è il rapporto che all'interno dei framers c'è dei framers c'è fra gli estremisti o fra i fanatici e chi invece come Ciani li vede come dei matti della regione del sud che sono appunto dei fanatici è molto interessante quella roba sì 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 perché poi via via anche le persone che hanno accompagnato Paul perdono il lume della ragione penso proprio a Stilgar che parte per la tangente e non è un momento di euforia io questo vorrei anticipare già qualcosina che viene dopo le cose andranno sempre peggio perché in qualche modo quando si spegne la ragione e ci si affida e si fa a riferimento esclusivo su una cosa questa cosa sfugge di mano ma sfugge di mano in maniera irreversibile e tra l'altro diciamo che si vedono io non la so la storia se vuoi puoi anche un po' spoilerarmela tanto per me è veramente un'esperienza metafisica andare a vedere quei film cioè penso che ci sia una componente proprio di esperienziale nel successo di questo film non credi io vedo le persone che scrivono le recensioni e dicono guarda speravo durasse altre due ore perché ti porta forse in uno stato quasi di estasi visiva che ti viene voglia di rimanerci in quel mondolino e quello che dicevo prima la saga letteraria è splendida io il libro l'ho consumato cioè letteralmente la mia prima copia di Dune non c'è più perché la forza di leggerla era in uno stato pietoso ne ho comprato un altro la tengo ancora lì ma non però l'esperienza immersiva che solo il cinema e la musica esatto la colonna sonora di Hans Zimmer e sound design in generale Oscar assicurato cioè ancora prima questo è un elemento che veramente induce e lì Jodorowsky ci aveva già provato allora negli anni settanta e ora con tutt'altro linguaggio e con tutt'altra struttura ma si raggiunge qualcosa di simile è una sorta di meditazione attiva guardando l'uomo rimane immerso in questa nuova dimensione sì chissà ieri sera in attesa tua ho visto il documentario che l'ho trovato un posto dappertutto su YouTube su Prime su Nautv del documentario di Alejandro Jodorowsky per chi non lo sapesse Alejandro Jodorowsky è stato tante cose diciamo che è stato un autore teatrale poi è stato un regista alternativo ma che se adesso venisse pubblicato trasmesso a Rai 1 alle 20.30 un suo film ancora adesso credo che il giorno dopo ci sarebbe un'interpellazione parlamentare interpellanza parlamentare insomma ci sarebbe un casino perché qualcosa di veramente potente poi è stato autore di libri diciamo che il mondo New Age che tanto ci segue ci ama ci odia qui al Bazzara Atomico lo conoscerà perché è stato poi diventato un autore importantissimo legato al mondo della spiritualità dei tarocchi eccetera lui ha letto i tarocchi per tanti anni ancora adesso lo fa diciamo che il suo vero lavoro è diventato quello e li ha studiati ossia veramente ha rielaborato le carte dei tarocchi reinterpretando la simbologia cioè il suo studio sui tarocchi comunque è una pietra migliare è una pietra migliare e lo dico perché non tutti sanno che è stato il primo a immaginare di fare un film su Dune uno dei primi o il primo ed il documentario racconta che cosa volesse fare e che poi non si è fatto perché mancavano 5 milioni di euro documentario del 2013 presentato a Cannes che appunto è Jodorowsky's Dune racconta l'impresa impossibile che fu allora di Frank Pevich doveva esserci Orson Welles Sabato Ordalì a dirla sembra una varzelletta Mick Jagger Mick Jagger i Pink Floyd a fare le colonne sonore sembra una a raccontarla sembra una varzelletta è che tutti avevano detto di sì cioè tutti c'erano e solo lui poteva farlo perché nel documentario è molto interessante si vede che lui racconta come e anche gli altri lo dicono quanto motivasse le persone per fare questo film cioè per lui era diventato come Herberter questione di vita tant'è che poi fallito Dune ha smesso di fare regista cioè ha avuto proprio un trauma ha avuto ancora una coda con un film bellissimo che secondo me viene capito poco che è Santa Sangre quello è un film è un film pazzesco ma sì poi da lì si inaridisce tutto Santa Sangre è l'ultimo colpo di coda che tra l'altro inaugura tutto un altro filone di cinema che verrà raccolto da altri verrà raccolto dal suo amico Nicholas Winding Refn e che arriva fino ad oggi ma sicuramente quello è un trauma è un trauma incredibile e irrisolto così tra le tante cose che fa Jodorowsky oltre a scrivere di esoterismo Vangeli Gnostici Tarocchi ma al tempo stesso fare teatro cinema eccetera eccetera non so se lo sapete ma Jodorowsky's Dune esiste o meglio esiste in un altro formato perché lo reinventa come fumetto lui aveva fatto ricorso ai disegni di Mebius che è questo spettacolare fumettista illustratore francese e a un certo punto non avendo più i diritti della saga di Herbert questo fumetto cult non parla di Arrakis non parla di Polatreides però è l'adattamento lo dice lui stesso nel documentario del progetto mai realizzato sto parlando di Linkal Linkal che è veramente un fumetto iconico una pietra miliare della cultura occidentale quindi anche lì ramificazioni su ramificazioni Dune la cosa interessante di questo documentario spoileriamo anche quello tanto qua almeno il tempo è breve guardate il bazzardo atomico e vi portate a casa tanti altri contenuti è che lui scrisse questo storyboard insieme a Mebius e insieme ai migliori grafici dell'epoca ai migliori professionisti dell'epoca fece questo storyboard che è una roba enorme è più di una bibbia è una roba gigantesca e lo portò ad Hollywood e fu rifiutato il problema era che il film doveva durare dieci ore ed effettivamente Hollywood che è un'impresa ed è un'azienda che ha i suoi paradigmi ovviamente non poteva concepire l'idea di dare in mano un budget così grosso a un personaggio come Jodorowsky che per quanto fosse un entusiasta un genio totale più che genio cioè una persona totalmente connessa per chi ci crede col mare delle idee e ne ha portate fuori talmente tante e ne ha messe talmente tante in questo storyboard che questo storyboard sembrerebbe che abbia girato nelle ville di Hollywood negli anni successivi e abbia veramente ispirato ma non solo si è stato derubato delle idee che c'erano dentro per un sacco di altri film sì 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 andatevi a vedere la carrellata finale di questo documentario trovate Star Wars vabbè Star Wars attinge ad une pieni mani ma allo Jodorowsky di una attingono anche opere che mai ci aspetteremmo He-Man Prometheus la stessa saga di Alien ma anche Terminator Indiana Jones ci sono un sacco di scene facciamo un esempio per esempio l'idea dell'occhio bionico cioè che tu quando vedi qualcosa riesci a vedere anche diciamo dei dati in tempo reale cioè quella l'ha inventata Jodorowsky per Dune e poi si è vista in Terminator lo sguardo dagli occhi di Schwarzenegger viene da Jodorowsky ma la stessa spezia viene ripresa non tanto nelle prime nei primi capitoli della saga di Star Wars ma soprattutto in quelle più recenti tra l'altro che si parla appunto della dust della polvere ma infatti sottolineiamo il il primo Dune quello del 65 è il primo best seller di fantascienza ha venduto cosa più di 12 milioni di copie è una roba esagerata cioè è proprio stato il capostipite di quel filone lì per quanto difficilissimo da leggere eh sì come te lo spieghi cioè rispetto a Tolkien è più o meno difficile Dune li metto sullo stesso livello perché sono opere che hanno sicuramente un volto esoterico possono essere fruite come racconti come racconti avvincenti suggestivi e al tempo stesso hanno un volto esoterico dentro Dune leggendo Dune si incontrano termini complessi ed evocativi Paul quando ha queste visioni che vedete anche nel film finisce nel cosiddetto Alam Almital tradotto in latino come Mundus Imaginalis sono citazioni dal sufismo una corrente esoterica islamica del medioevo al tempo stesso entrano in gioco concetti legati all'esoterismo scusate all'escatologia islamica alla filosofia russa del cosiddetto cosmismo quindi sono libri complessissimi sia questo che il signore degli anelli dove invece rivive tutto un mondo norreno ma anche tutto un certo tipo di cristianesimo doto le due cose si incontrano e si evolvono in maniera incredibile e al tempo stesso presentano un volto accattivante e questo che fa la differenza ieri sera mi è stato chiesto in un'intervista mi chiedevano perché oramai ti chiamano tutti perché no me l'hai detto prima e no no perché tutto come dice Linus a Radio DJ comincia tutto qui Linus mi spiace adesso comincia tutto qui al Bazzar Atomico no perché effettivamente ti stanno chiamando in parecchi e Giovanni mi diceva che su Honda Cinema la recensione rimanda a te sì sì a un certo punto sei l'eminenza grazie di esserci qua no no grazie a voi perché veramente come dici tu ho iniziato tutto o almeno veramente tantissimo da quell'intervista al Bazzar Atomico perché in qualche modo i saggi che scrivo hanno avuto una risonanza è solo l'inizio Paolo ti ho interrotto stavi dicendo qualcosa te lo ricordi non te lo ricordi sì sì dicevo parlavo di queste opere che sono a metà strada dicevo ieri mi hanno chiesto quanto è pop quanto può diventare pop Dune ma sta con i piedi sui due mondi un po' come il Colosso di Rodi da un lato è un'opera estremamente esoterica e complessa per capire Dune bisogna leggerlo dieci volte tenendo in mano almeno veramente nello scrivere il saggio ho tirato fuori idee cose che manco io mi sarei mai aspettato cioè veramente riferimenti all'imam Shamil e alle guerre nel Caucaso dell'ottocento ma non sono cose vaghe cioè tutto il lessico di Dune dal nome dei pugnali al nome della lingua richiama quel mondo là e al tempo stesso però è estremamente accattivanti estremamente moderne cioè l'idea del viaggio di Paul come abbiamo detto richeggia concetti di strettissima attualità e di strettissimo fascino il signore degli anelli secondo me segue a modo suo ma lo stesso discorso genera genera l'immaginario fantasy che veramente troviamo un po' da tutte le parti dagli orchi gli elfi e i nani però al tempo stesso va a concetti di una profondità mitologica e filosofica pazzesca quindi sono queste opere che mi piace definire seminali veramente quindi questa idea del mito anche di ma secondo te perché faccio una domanda un po' strana c'è tipo la Melonia più affezionata a Tolkien o comunque tutto il mondo della destra conservatore anche negli Stati Uniti ha questa fascinazione per queste storie legate più al mondo di Tolkien al mondo fantasy mentre invece tutta la parte progressista colorata liberale psichedelica vanno tutti su Dune è come se ci fosse anche qui una illusoria divisione perché tu invece sai che ci stai dicendo che questi due mondi si parlano ma perché invece nella parte esoterica si separano perché diciamo se ti piace Dune sei di sinistra se ti piace Tolkien sei di destra un po' così semplificante sì 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 decisamente ma poi in realtà ci sono corsi e ricorsi cioè per esempio in Italia il Signore degli Anelli è sempre stato associato a un immaginario di destra mentre per la verità il fatto che in America non è stato così è solo di recente che si è sviluppato la lettura esoterica si ferma molto spesso alla superficie Tolkien in realtà non lancia un messaggio particolarmente diverso da quello di Dune per carità Dune ha questa idea che l'autoritarismo sfugge di mano mentre invece ma qui siamo veramente alla superficie siamo alla quarta di copertina mentre invece nel Signore degli Anelli il ritorno del re ripristina l'ordine certo Aragorn non va fuori di testa e non diventa il nuovo Sauron Polatredes sì però questa mi permetto la lettura politica questo è qualcosa che mi dispiace veramente tanto è veramente inadeguata perché i sottotesti di Dune ci portano a avere riflessioni che coprono tutto l'arco della filosofia della politica e del mondo delle idee ma forse è proprio quello cioè il fatto che Dune è super cioè non è pessimista però parla del caos cioè non ti dà come dire una via cioè non so come dire io ho visto solo i film del Signore degli Anelli però finisce con una famiglia che si abbraccia e quello lì che sta con i figli ma infatti cioè non so come dire i titoli dei sei volumi i titoli dei sei volumi sono Dune è il primo Messia di Dune i figli di Dune l'imperatore Dio di Dune gli eretici di Dune la rifondazione di Dune cioè già i titoli danno un attimo cioè non è rassicurante no per nulla succede veramente di tutto e non si raggiunge mai un equilibrio nell'universo di Dune ma questo ribadisco va molto più in profondità e molto al di là della politica non esiste il bianco e il nero tutto è grigio tutto è grigio e ha sfumature diverse l'analisi dell'universo di Dune è legata a fazioni politiche a fazioni che si contendono il potere e quindi sono buone o cattive a seconda delle esigenze del momento senza fare spoiler ma voi avete presente nell'universo di Dune questa sorellanza femminile queste eminenze grigie queste gesuite guarda gli appunti ed è un mezz'ora che ce l'ho sto appunto femminile però stavo aspettando perché quello per me questo film è il film più 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 gender che c'è nel senso che è interessante come indaga il femminile no? eh sì decisamente decisamente e queste eminenze grigie femminili che nel film io adesso sto parlando dell'ordine benegesseri poi arriva a bomba sugli altri personaggi femminili in realtà penso a questa reverenda madre la Gaius Elem Moyam che compare all'inizio e fa la prova del Gonjabara Pol e poi sta al fianco dell'imperatore fino alla fine tecnicamente parlando ai sensi della narrazione è un villain un antagonista bene andando avanti con la saga senza anticipare nulla ma dalle parti degli eretici di Dune si scopre che in realtà queste hanno sempre tirato le fila della storia e sono le vere protagoniste quindi quelli che prima erano gli antagonisti diventano i protagonisti quelli che ora sono gli antagonisti ma a un certo punto c'è proprio questa idea di opacità che invece nel Signore degli Anelli non esiste e si accenna anche in questa seconda parte nel rapporto che c'è fra la madre di Pol e appunto Erebene Gesserit ma anche nel rapporto fra madre e figlio c'è un po' anticipano un po' questa loro capacità di appunto tirare le fila perché loro sono al di là di tutto e non tifano per una parte dell'altra ma stanno per l'equilibrio diciamo così assolutamente Brian Herbert scusate Frank Herbert aveva in mente i gesuiti dico Brian Herbert perché nella sua biografia del padre dice che c'è un aneddoto curioso Frank Herbert frequentò un collegio di gesuiti non si trovò molto bene e quindi ne riportò in realtà una visione estremamente distorta le Bene Gesserit non sono i gesuiti sono quel che si dice dei gesuiti quindi creatori di religioni manipolatori di politici creatori di superstizioni ma Frank Herbert ne è ben consapevole e una cosa che mi affascina è che pur facendo facendo proprio tutta la campagna diffamatoria anti gesuita a un certo punto fa di questo ordine delle Bene Gesserit i protagonisti della storia quindi dice si sono torbidi ma non possiamo farne a meno sono i veri protagonisti della storia quindi è estremamente complesso il mondo di Dune e non è possibile arrivare a una semplificazione a una polarizzazione non è un mondo che si presta a polarizzazioni di natura religiosa il bene il male la luce le tenebre la luce e le tenebre ricordano un sacco anche visivamente nel film ma si invertono di continuo di parte e beh come la realtà e in questo caso come la realtà del rapporto maschile-femminile se ci pensi cioè rispetto il potere ecco chi ha potere in Dune il maschile governa come in questo mondo ancora il potere quello più tangibile quello economico quello politico però dietro c'è come dire quel potere più sottile meno individuabile che è ma non dato per un fatto di scelta quanto per predisposizione no? Dune dal punto di vista dello studio delle fonti secondo me adesso non so se abbi in mente Herbert avesse in mente no perché veniva prima però comunque ha in mente tutto un filone che troviamo ben condensato in Maria Gimbutas quindi nell'idea del femminile arcaico del matriarcato primitivo che è un'idea che in Dune viene ben declinata in un'ottica abbiamo una netta separazione il potere politico militare è maschile questa idea che è in antichità le donne fossero sì per carità in determinati contesti contingenti è possibile penso non so alle amazzoni però è indubbio che fisiologicamente l'uomo è più forte è più forte fisicamente e quindi la sua posizione di archè di potere di dominio di comando con la forza fisica l'uomo inteso come maschio la detiene per dati di fatto anzi solo con l'evoluzione successiva adesso si sta arrivando a una parità di genere perché in qualche modo la forza brutta ha smesso di essere un elemento discriminante nel tirare le fila nel fare politica però al tempo stesso il femminile ha sempre avuto con sé un elemento che poi si è messo un po' in ombra negli ultimi duemila anni per via anche di un certo tipo di religiosità in realtà lo spirituale inteso come il magico il magico il potere di dare la vita di creare di trasformare nasce ed è dominio fisiologico della donna le emozioni l'intuito cioè mi è sempre colpito questa cosa che nelle culture primordiali anche adesso in realtà quando nasce un bambino ci sono le donne non esistono ostetici maschi magari si qualcuno però donne e quando muore l'uomo c'è la donna cioè adesso ancora adesso magari in qualche paesino sperduto di qualche regione remota dell'Italia se entra un uomo viene dicendo è roba nostra questa cosa qui del morto questi passaggi sono i cosiddetti riti di passaggio quelli di Pankhennep questi riti di passaggio sono momenti sacri da sempre infatti insieme al passaggio c'è la parola rito c'è l'elemento rituale l'elemento magico l'idea del passaggio pensiamo agli sciamani l'attraversamento delle dimensioni ma anche delle varie fasi della vita è magico e cerimoniale questo elemento è strettamente correlato con la figura femminile in tantissime religioni e nell'immaginario religioso da sempre il mondo giudaico cristiano per lo meno quello mainstream ha messo ai margini la figura femminile ma culturalmente il guerriero è uomo la sacerdotessa è donna e questo è un'idea ma infatti l'idea che il sacerdote non possa sposarsi secondo me qualcosa di di questa non virilità ce l'ha perché l'idea è comunque quella di di un suorogato femminile parlo di mainstream perché in realtà altro filone in cui ho scritto tanto è quello dei Vangeli Gnostici quindi del mondo del cristianesimo degli apocrifi in realtà concepiva l'idea di una donna come sacerdotessa anche nel mondo giudaico cristiano questa idea di Maria Maddalena su cui poi Dan Brown ha scritto un sacco di cose anche un po' vanvera non è tanto il discorso della moglie della love story del gossip story con Gesù in realtà il punto è che lei era una sacerdotessa secondo gli Gnostici che però scrivono nel primo secondo secolo dopo Cristo prima degli oggi tra l'altro mettiamo a cavallo facciamo a cavallo in contemporanea e rivendicano una linea di non di sangue ma di discendenza di insegnamento carismatico da Gesù a figure femminili quindi l'idea che in qualche modo addirittura c'è un Vangelo apocrifo risalente a secondo dopo Cristo che si chiama Vangelo di Maria Maddalena chiaramente non l'ha scritto Maria Maddalena questo tutti i Vangeli sono ma l'elemento più interessante è un altro il fatto che fosse pacificamente accettata questa ficzio di fondo per cui una donna non l'ha scritto lei ma è plausibile che una donna possa aver scritto qualche cosa nel secondo secolo dopo Cristo quali autori donne abbiamo in quel mondo di tra l'altro adesso uno potrebbe pensare beh adesso l'area è cambiata anzi come dice la Schlein il vento è cambiato perché adesso sono tutte donne le cape in Europa c'è una donna in Italia già abbiamo due leader donne donne ovunque ma non sono le donne che vediamo in Dune sono le donne che occupano gli spazi del maschile la femminilità che vediamo in Dune è diversa da quella che vediamo nella Meloni o vediamo nella si chiama quella Fonderlain eccetera sì decisamente decisamente le donne che attualmente sono alla ribalta sono delle muadib non intendo dire nel senso ma nel senso di facciamo la clip Riberi dice Riberi dice la Meloni è una muadib domani ho 18 femministe sotto casa col mitra no no intendo dire che detengono una posizione di archè politico diretto maschile di leadership ma leadership stretta di comando decisionale ma in realtà il ruolo tipico delle donne nell'immaginario di Dune ma anche nell'antichità nel mito il cosiddetto matriarcato di cui parlavo prima non è quello di leader tanto per andare al neolitico per tornare a Maria Gimbutas non è quello di leader della tribù inteso come coordinatrice delle battute di caccia e dell'apparvigionamento ma è quello di grande mente di figura che tira le fila adesso l'elemento gesuitico di prima abbiamo messo un po' in cattiva luce ma in realtà autrici di un pensiero profondo questa è l'idea filosofi che tirano le fila esatto che però se venisse qua l'ospite che c'è stata qualche puntata fa anche l'ultima puntata ti direbbe sti cazzi cioè io non ci credo sta roba mi sembra una retorica maschilista del tipo no le donne stiano governino nell'ombra poi noi ci occupiamo del potere temporale non so come dire non è che questa cosa poi viene vista così tanto bene dalle donne non sono più non si accontentano di questa dinamica di essere poteri più occulti la classica frase dietro un grande uomo c'è una grande donna però non dicevamo questo cioè la donna in dune non è quella dietro l'uomo che diventa forte è quella che è sopra l'uomo è diverso non è solamente quella che sta nell'ombra perché deve far andare avanti qualcuno è qualcuno che è sopra che è riconosciuta come figura sopra l'uomo e quindi esatto il piano è un po' diverso ma secondo te è riconosciuta sopra cioè nel senso che le Bene Gesserit sono superiori all'imperatore è complessa la faccenda apparentemente perché lì dobbiamo andare veramente nel sottotesto è un fatto interessante è un punto questo è un punto su cui Herbert nel primo se uno legge Dune perché nel film non si capisce chi sta sopra chi sta sotto ma neanche in Dune neanche in Dune però poi andando avanti con la storia effettivamente si comprende come l'imperatore fosse veramente un fantoccio una figura messa lì dalle Bene Gesserit l'idea che la figlia dell'imperatore Irulan quella interpretata da Florence Pag per capirci sia una Bene Gesserit la dice lunga non è la classica figlia che decide di fare questo lavoro perché piace tanto e tira tanto ma è al contrario è un agente infiltrato dalle Bene Gesserit per tenerlo sotto controllo in qualche modo le Bene Gesserit dirigono la politica dirigono infatti nell'esempio di prima mi permetto ma per posizione non per figure ma von der Leyen sì Meloni no nel senso di figure che hanno un vero potere direzionale e non soltanto un ruolo di leadership diretta poi ribadisco io non sto postulando no no esatto stiamo dando però l'interpretazione di Herbert è suggestiva e questa idea che in realtà si riconosce alla donna molto di più e non è lo stare dietro appunto un grande uomo ma è al tempo stesso l'avere la visione d'insieme l'essere come dire l'essere papa e avere poi i vescovi uomini effettivamente i termini che inquadran bene secondo me le prerogative maschile più o meno sono pensiero e azione e visione assolutamente sì no poi tra l'altro visione nel caso di queste streghe chiamiamola così così ci capiamo visione così veramente ci arrivano con i mitra esatto visione ma streghe è un'accezione per le mie amiche esoteriche che ci seguono è un positivo noi abbiamo avuto solo streghe ospite nel senso che hanno una visione anche del presente e del futuro cosa che l'uomo solo se sei l'eletto hai quello è interessante cioè le donne esotericamente evolute vedono sempre ovvio le premonizioni eccetera gli uomini no solo l'eletto il muadib lo può lo può fare esatto l'eletto è così infatti il punto fondamentale di muadib perché poi uno può dire beh allora perché maschio in realtà l'eletto lo spieguo nel saggio è androgino sotto molti versi sì esatto anche perché all'inizio lui per esempio uno dei motivi per cui Paul non crede di essere eletto è perché si pensa che sia quella che è insomma la bambina che verrà ad essere eletta sì esatto esatto o comunque lì c'è tutta una faccenda una faccenda complessa però è un tema molto forte c'è in Dune come anche è presente nei romanzi di Robert Jordan La ruota del tempo questa che poi è adattata anche per Prime Video c'è una bella serie sulla ruota del tempo e anche lì c'è un ordine femminile le S dai e c'è un prescelto maschile che è prescelto in quanto riesce a fare ciò che fanno anche le donne quindi l'idea in realtà di una superiorità del femminile rispetto al maschile l'ottica ma è così è inutile negarci l'ottica è maschile perché la cultura è maschile quindi l'idea e chi scrive è maschile il pensiero è maschile non neghiamoci però è interessante questo elemento per cui per diventare perfetti bisogna farsi donna nei Vangeli Gnostici che citavamo prima c'è un riferimento opposto ossia e quello è stato veramente frainteso nella peggior maniera a un certo punto Gesù dice in uno di questi Vangeli Gnostici se Maria Maddalena si farà uomo allora entrerà nel Regno dei Cieli apriti cielo ovviamente l'esegesi è stata devastante poi però andando a studiare un po' meglio si vede che nella pagina successiva si dice voi dovete farvi donne il punto è quello del superare i limiti che oppongono quindi c'è proprio tutta un'idea che secondo me sta alla base di un cattivo maschilismo senza altro ma anche di un cattivo femminismo contemporaneo questa polarizzazione per cui il maschio deve pensarla alla maschile deve avere un pensiero maschile la femmina deve avere un pensiero femminile in realtà il superamento di questi confini a livello mentale perché si fa poi molto discorso sul gender dal punto di vista del superamento fisico ma in realtà quello che sarebbe importante è anche riconoscere la sfumatura cognitiva mentale anche esperienziale l'idea di Dune non è tanto quella del transgender ovviamente quanto semmai quella del superare il pensiero maschile e iniziare a utilizzare quel pensiero femminile che è visione che è pianificazione e che tra l'altro si dimostra superiore in termini di leadership perché qual è una cosa che spesso viene fraintesa il fatto se sei un leader comunque anche se sei donna devi utilizzare dei linguaggi o comunque una leadership di tipo maschile dove per maschile intendo appunto gerarchizzazione insomma metodi di un certo tipo mentre invece una leadership è più accogliente più femminile viene vista come debole invece Dune ci spiega l'esatto opposto addirittura appunto qua vado un po' avanti con la saga ma il resto volutamente generico a un certo punto questo impero queste figure spariscono e rimangono solo le benegesseri che dicono a un certo punto non ci serve più questa facciata maschile continuiamo a tirarle fila direttamente noi perché tanto questi ogni volta che fa non farò casino quindi questa idea in realtà l'essenza della leadership è femminile la posizione maschile quando prima parlavo del leader maschile intendevo la posizione cosiddetta operativa abbiamo le figure operative e le figure di comando immaginiamoci l'organigramma aziendale ecco la sua il CEO è femminile poi i vari CFO tutte le figure executive sono maschile questo è l'immaginario di Dune ed è rivoluzionario anche perché veramente viene alla luce negli anni 60 esce nel 65 tre anni prima del 68 quindi e questo secondo me è molto più attuale di tanto femminismo contemporaneo di tanta ideologia gender contemporanea proprio perché non lo rintraccia in una rivoluzione giusta sacrosanta sì no non lo so ma lo rintraccia nelle origini guarda indietro Dune per immaginare il futuro guarda al mito guarda le origini dell'uomo dell'uomo questa volta intesa come sapiens vedendola così a me torna alla grande lo sai che io sono un tuo fanboy come ti ho scritto ieri su Instagram però uno dice beh allora l'uomo è solo una cosa come dire di facciata no io ho un'idea voglio sapere cosa ne pensi ho avuto un sogno stanotte probabilmente avevo durante un'erezione sai che di notte avvengono queste cose a volte giusto per ribadire il concetto il pulpito maschile ho detto è molto banale come metafora però questi vermoni infiniti oh ne arriva un verme sempre più grosso questi vermi enormi che stanno sotto e che per dimostrare agli altri e a te stesso che sei in grado di essere un leader devi saper cavalcare questo vermone questa roba fallica enorme mi ha ricordato un libro come devo dire un po' controverso che è Cavalcare la tigre di Evola si chiamava cioè il fatto che queste cioè il maschile è proprio quello cioè è la diciamo archetipicamente quelle cose che non a caso stanno sotto la sabbia quindi sono inconsce e sono il primo chakra probabilmente nella tradizione indiana sono quelle energie sessuali e sono anche quelle cose nascoste quelle nostre debolezze quelle nostre anche incongruenze quelle cose che nascondiamo anche parti violente anche parti ruente che se non siamo in grado di dominare non possiamo essere leader quindi il maschile in realtà è indispensabile anche per una donna tant'è che alla fine come finisce il film con lei che cavalca un cazzone gigante sotto la sabbia o sbaglio c'è ne un fade in quindi una fade in cioè lei è una con te coglioni sì sicuramente la lettura psicanalitica è importantissima nella saga di Dune è molto importante questa idea del verme delle sabbie che segna proprio la dimensione inconscia profonda oscura quindi qua l'elemento del maschile e del femminile smette di essere una polarizzazione di genere e diventa la polarizzazione jungiana tra il conscio e l'inconscio tra l'emerso e il sommerso quindi in realtà dentro ciascuno di noi c'è un elemento conscio inconscio c'è un elemento maschile e femminile in quell'ottica lì e l'idea Dune può essere letto tutto in chiave psicanalitica l'idea è proprio quello di una persona che vive in superficie e poi a un certo punto scopre i grandi vermi delle sabbie che abitano nelle profondità e si devono cavalcare David Lynch che tu citavi prima parla di pescare dei pesci in profondità e giganteschi per parlare ovviamente della creatività del far riemergere le energie inconsce e soprattutto li pesca solo se crea movimento cioè anche lì c'è un'azione c'è un mettersi in gioco ah quindi quel coso lì che batte sulla sabbia è scuotere 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 non rimanere in movimento esatto bam tra l'altro ritmicamente è il cuore infatti sai che quello mi mancava con la metafora grazie Gio ma perché c'è questa cosa del battere ritmico ho pensato tanto anche alle danze noi abbiamo avuto pecere le danze sacre anche i rave cioè quella non è una cassa in quattro una cassa in quattro cioè il fatto che boom boom che si rifà a rituali anche ancestrali c'è sempre il tamburo il ritmo il ritmo che fa uscire la parte inconscia africana profonda che abbiamo dentro di noi africana ma anche asiatica centrasiatica io ho scritto un saggio su questo tema che è Abraxas la magia del tamburo che recepisce proprio l'influenza dall'oriente non inteso come estremo oriente questo dell'influenza dell'estremo oriente partiamo facciamo dieci puntate questo lo sapete tutti ma invece c'è anche un'influenza cosiddetta altaica che proviene dalle steppe dall'asia centrale che è proprio quella dei rituali sciamanici e della musica non intesa come melodia ma intesa come ritmo ritmo ossessivo reiterato che conduce l'uomo a compiere quella che Mirce Eliade chiama la rottura di livello in qualche modo è paragonabile alla trance i baccanali dei greci l'inviamento l'entusiasmos l'entusiasmos è un po' quella roba là assolutamente ma se vogliamo del Medio Oriente insomma di quella parte lì è come la danza sufia anche anche se non è battito è comunque sia una sorta di movimento ripetuto che poi ti porta l'idea del mantra queste cose qua arrivano in Grecia tramite i cosiddetti culti orfe orfeo è definito da molti studiosi uno sciamano greco c'è questa influenza quello che mi ha affascinato molto da storico delle religioni ed appassionato invece dei vangeli apocrifi è come una figura che affolla i vangeli gnostici è veramente presente un po' ovunque che è questo Abraxas che per qualche strano motivo la storia delle religioni in passato ha sempre identificato come un portatore di scudo tra l'altro non è ben chiaro perché un tizio dovrebbe andare in giro con uno scudo senza un'arma e con una bacchetta di legno militarmente è una cosa poco senso io e l'amico Igor Caputo in questo saggio esaminiamo come molto probabilmente che sia un tamburo o che sia uno scudo ma uno scudo inteso in senso sonoro questo Abraxas altro non sarebbe che il cosiddetto psicopompo una figura che permette di compiere appunto questo attraversamento sciamanico tra la nostra realtà e la realtà profonda sia essa l'aldilà il mondo sotterraneo quindi che stia sopra o che stia sotto quindi che siano i vermoni che abitano le profondità di Arrakis o che siano le entità celesti che dimorano nei cieli molto spesso gli sciamani indossavano un copricapo con piume da uccello quindi a segnare la connessione tra il nostro mondo e il mondo celeste ma al tempo stesso avevano queste lunghe vesti con delle corde dei cordoni che richiamano il serpente il mondo infero per segnare l'idea della doppia rottura di livello nel mondo ripartito tipico del mondo eurasiatico quindi il cielo la terra e gli inferi lo sciamano viaggiava sia su che giù quello che è curioso è che questo Abraxas dei Vangeli Gnostici è un umano con la testa da gallo e i piedi serpentini quindi tutto torna c'è veramente un riemergere di questi temi che secondo me arrivano fino a Dune quindi assolutamente il saggio che ho scritto su Abraxas anche se apparentemente non c'entra nulla con Dune è la chiave di lettura però non l'hai messo nel libro questo parallelismo no c'hai un po' di rimorsi adesso che te l'ho fatto venire a me sì 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 decisamente decisamente ritiriamoli tutti no 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 ma anche perché effettivamente poi nel libro c'è quest'ulteriore elemento tipico anche della cultura sciamanica dello stato alterato di coscienza indotto sia dai ritmi sia anche dall'allucinogeno dall'allucinogeno sacro che è la spezia esatto tra l'altro la spezia non c'è solo la spezia c'è anche quest'acqua della vita no sì come si differenziano secondo te le due sostanze e questo è molto interessante perché sicuramente entrambe appartengono al ciclo vitale del verme quindi entrambe emergono dal sottosuolo dall'inconscio però l'acqua della vita mentre la spezia è sostanzialmente il cosiddetto farmacon quindi una cosa che da un lato si è assunta in eccessive dimensioni diventa in eccessiva entità diventa una droga diventa un veleno quindi crea dipendenza ma uccide anche in piccole dosi è la cosiddetta spezia geriatrica quindi il fatto è che i personaggi di Dune possono vivere fino a 200 anni perché assumendo la spezia dilatano proprio migliorano il loro organismo a livello fisiologico pensate per chi ha visto soltanto il film al barone che viene avvelenato e fa il bagno della spezia per riprendersi quella roba nera è spezia è spezia in un altro stato ma è spezia fa il bagno nella spezia questo è un dettaglio interessantissimo e dall'altra parte c'è l'acqua della vita l'acqua della vita questo è veramente un concetto antichissimo che risale da un lato a tradizioni iraniche l'acqua della vita compare nel mondo iranico compare nello Shahnama compare nell'apocalisse di Adamo che è un vangelo gnostico che ho avuto l'onore di tradurre e pubblicare che trovate per l'Indau ed è qualcosa che va ancora al di là quindi la spezia rinvia a tutto un dualismo della droga che in piccole dimensioni sviluppa abilità elementi psichedelici ma anche proprio ultraumani transumani l'acqua della vita è un elemento battesimale che va alle origini l'acqua della vita è questa mitica fonte ancestrale che conferisce i poteri la spezia viene assunta da tutti i personaggi di Dune in piccole dosi finché non si sviluppano gli occhi di Vat quindi gli occhi azzurri invece solo il prescelto supera il rituale dell'acqua della vita e questo è curioso tornando al tema del maschile e del femminile la prima persona che fa il rituale dell'acqua della vita non è Paul è sua madre Jessica poi lui deciderà di fare il rituale come una donna e tutti vanno nel panico perché dicono cosa fa un uomo maneggia il sacro e nell'acqua della vita c'è un tema molto interessante il tema del sacro inteso come impuro questo è curioso perché nel nostro immaginario l'impuro è qualcosa di sporco il sacro è puro in realtà nel mondo giudaico antico il sacro è ciò che è sommamente impuro impuro in quanto è un agente contaminante che nuoce all'uomo è una sorta di radiazione che contamina l'uomo proprio perché l'uomo non è degno di stare a contatto col sacro il sacro appartiene alla sfera del tossico del pericoloso Mosè non guarda Dio non lo vede lo vede per riflesso il sacerdote che entra nel tempio deve compiere tutta una serie nel tempio di Gerusalemme fare un giro pazzesco col Prometheus che poi è il nome da cui ha preso dal libro da cui nasce il film di Oppenheimer insomma quindi l'uomo che tenta di arrivare al sole sarebbe tutto un giro pazzesco l'uomo che tenta di vedere di vedere Dio e poi ne rimane annichilito il tema che ricorre nella mitologia greca ricorre nei Vangeli Gnostici questa idea che in qualche modo il divino è un elemento irraggiungibile irraggiungibile e pericoloso pericoloso quello è interessante sì sì ho fatto questo questo master al Politecnico di Spirituality Management dove mi hanno introdotto a questo concetto che è totalmente non pop diciamo perché tutto ciò che è divino è tipo andare alla spa è tipo andare a cuciterme dici sì nel divino invece in realtà chi ha dentro le faccende più profonde sa che in realtà è come mettere le mani in una centrale elettrica e quasi sempre vieni bruciato cioè quindi se non sei pronto il divino non fa per te cioè infatti esistono certi tipi di meditazione certi tipi di percorsi che non possono essere fatti da persone comuni ma che sono da sempre tu me lo insegnerai come dire dedicati a chi ha fatto già un percorso ma di monachesimo estremo esatto l'idea del mistico non nasce come una forma di autoelitarismo per diventare più fighi degli altri l'idea del mistico nasce come una sorta di a me piace questo paragone che mi sta venendo così al momento avete presente gli astronauti gli astronauti fanno tutta un'enorme preparazione non per andare in giro e flexarsi nello spazio ma per essere in grado di sopravvivere alle minacce che troveranno là fuori nel mondo ma partiamo io adesso sono un appassionato di giudaismo quindi vado da ma già nell'antico testamento l'idea dei leviti dei sacerdoti del tempio che fanno tutta una serie di rituali di purificazione la purificazione la fanno per prepararsi al contatto con l'impuro con la I maiuscola che è il sacro e quindi questa idea che in qualche modo debbano prepararsi per poi essere esposti per poco a qualche cosa di radioattivo di pericolosissimo che annichilerebbe qualsiasi uomo e che in qualche modo invece permette a queste figure di sopravvivere e tornando al tema di prima nella saga di Dune coloro che sanno maneggiare il sacro e quindi da un lato la sfera religiosa ma dall'altro anche l'inconscio perché poi da Jung in avanti i due temi si saldano insieme quindi quello che fa paura non è tanto il fulmine del divino soprattutto magari per chi non ha una concezione religiosa così stretta ma è l'idea dei pericoli che si trovano nell'inconscio perché l'uomo quando si immerge in quell'impuro incontra se stesso guarda nell'abisso e incontra se stesso sì che mi ricorda tanto alcune pratiche di stregoneria anche cioè il fatto che alcuni libri che magari girano con rituali che non sarebbe meglio non fare se non sei una persona in grado di avere a che fare con certi demoni che poi possono essere demoni per qualcuno magari più orientato alla psicanalisi che abbiamo dentro di noi invece per qualcuno che è più interessato a far cena legata all'esoterico proprio entità che stanno in mezzo fra noi e Dio che sono tantissime come diceva Shakespeare demoni di vari livello assolutamente sì assolutamente sì ma poi sicuramente questo pensiero che tu esponi va molto in linea con quello che appunto scrivono anche i Vangeli Gnostici l'idea che per raggiungere Dio si attraversano sette strati celesti con sette guardiani gli acconti che tengono l'uomo in gabbia un po' come gli agenti di Matrix diciamo una puntata scorsa come cavalieri dello zodiaco quando devono passare sì 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 ma l'idea dei guardiani delle soglie che in qualche modo devono essere affrontati è là fuori pericoloso quello che è ancora più suggestivo invece qua si arriva si torna a Dune si torna proprio al giudaismo antico è ancora un altro concetto ossia che il pericolo non venga da questi guardiani venga da Dio il Dio l'unico Dio di Dune è proprio Shai Ulud il vermone questo verme è pericoloso la spezia che giunge da lui è pericolosa l'acqua della vita che giunge da lui è massimamente pericolosa si cade in coma anche solo dopo averne bevuto una goccia allo stesso modo del tentare di cavalcare il verme cioè sono tutte immagini dello stesso concetto il verme la spezia l'acqua della vita formano un triangolo che è il triangolo del sacro inteso come il sacro incontaminato e in quanto tale pericoloso penso al guardare un eclissi cioè pericoloso se non filtrato ecco proprio perché è troppo perfetto l'uomo è troppo imperfetto e quindi questo sacro è alieno beh ma Paul effettivamente ci rimane sotto è solo grazie alla lacrima di 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 Charlie sì e questa cosa qua cioè qua devo devo citare la persona perché adesso sto per dire una cosa bellissima ma è una cosa bellissima che mi ha fatto notare Emilio Valotti grande esperto della saga di Dune qua si rovescia un archetipo l'archetipo delle fiabe è quello della principessa del principe azzurro che risveglia la principessa e invece questo è l'esatto opposto nella saga di Dune è la la fanciulla a risvegliare il bell'addormentato e qua emerge proprio l'idea del femminile che risveglia l'uomo da quella condizione del vermone che dicevi prima quindi in qualche modo l'uomo entra in contatto col verme cade in quella che Joseph Campbell scusate lo cito di continuo ma perché è un grandissimo appassionato di mitologia poi magari scriverò anche qualcosa su quello perché anzi sto scrivendo qualcosa su quello questa dimensione Joseph Campbell la chiama il ventre della balena rievocando Jonah rievocando tanti concetti che poi confluiscono anche in Pinocchio dal ventre della balena ne emerge tramite un aiuto quello che è intrigante nella saga di Dune è che l'aiuto giunge da una figura femminile e non solo da una lacrima della figura femminile che tra l'altro è preziosa in quel mondo lì e che la lacrima è un po' come dire il sintomo di quella caratteristica femminile che è l'emotività la compassione l'emotività quando prima si diceva mi dicevi le donne non vogliono vogliono essere uomini vogliono essere leader perché questa è una cosa che da loro potere ma allora prima di tutto noi non dobbiamo dire a una donna cosa può o non può essere però questa è una considerazione tirandomi fuori dal discorso perché secondo me c'è più potere in questo elemento almeno secondo me non lo so secondo Herbert di sicuro nella compassione nell'emotività io ho fatto dei percorsi spirituali e di decondizionamento dove eravamo pochissimi maschi erano tante donne e soprattutto erano condotti soprattutto da donne e mi ricordo all'inizio la sfida più grande quella che più richiesta ma non dall'esterno dall'interno era quella di imparare a piangere le donne ce le facevano tranquillamente per noi maschi era proprio superare quella soglia e proprio scoprire il potere anche dell'emotività fuori da quegli schemi di condizionamento di cultura e di ruolo sono schemi antichissimi noi tutti abbiamo in mente la retorica della strega e quindi questa figura femminile che ha questi poteri e deve essere arsa sul rogo nell'immaginario medievale nell'immaginario puritano ma in realtà bisogna salire ancora più indietro proprio a quell'epoca in cui si crea questa biforcazione che dicevamo prima quindi i cristiani gli gnostici gli eredi di Gesù la lotta per l'eredità di Gesù c'è un padre della chiesa tertulliano che condanna questo altro movimento questa concorrenza che ha delle sacerdotesse femminili dicendo ma come possono queste sacerdotesse gestire il sacro sono emotive piangono si agitano non sono persone razionali e quindi le condanna dice proprio anche San Paolo dice la donna stia a casa interroghi il marito in segreto dietro questa condanna evidentemente c'è una paura ma è palpabile nel testo se uno va a studiarsi le fonti vede proprio come c'è una fortissima paura perché questo avrebbe comportato una sovversione dell'ordine sociale però al tempo stesso c'è la paura e la paura di qualcosa che sicuramente esiste e è tangibile lo riconoscono anche appunto i più inveterati maschilisti questi padri della chiesa così appunto fautori del predominio del maschile si rendono conto che seguendo quell'altra via cascherebbe a pezzi il loro dominio ecco cioè il tertulliano ha paura ha paura di questo e invece questo passo cadenzato per non far svegliare il verme a me ha ricordato la necessità della presenza la necessità di come dire non dimenticarci che anche la mente razionale ha la sua funzione perché quello è proprio Gurdjieff in mente la presenza a se stessi la capacità di essere coordinati anche con corpo e mente certo sicuramente il discorso di fondo e qua entra in gioco anche un certo perché io vado a una velocità diversa cioè nel senso che è figo perché l'uomo saggio sa che sotto quella superficie c'è una potenza forte però quello veramente voluto è quello che decide lui quando chiamarla in causa esatto attraverso il battito e invece se io decido ed è nobile anche quello il fatto di no in questo momento non ho bisogno di questa energia così forte devo andare da A a B con la danza ritmica riesco a tenere a bada le mie pressioni inconsce più potenti io la butto lì ci vedo tanto anche del rapporto uomo-natura uomo cioè essere umano-natura cioè se vuoi che non si svegli il vermone devi camminare in un certo modo come come qualcosa di naturale o sì come qualcosa di naturale insomma in modo che non disturbi chi c'è sotto come parte del paesaggio cioè non devi evidenziarti in quanto uomo ma esatto ma riprodurre i rumori della sabbia con quel passo questo questo sicuramente c'è un discorso di Cthulucene dell'uomo che deve farsi parte di un tutto e entrare nel paesaggio assolutamente questo è molto forte molto evocativo però mi colpisce molto quello che hai detto tu perché mi hai fatto andare con la mente a un altro grande tema dell'universo di lune che è proprio quello del sufismo questi questi saggi del mondo islamico che in qualche modo ribaltano il tradizionale dualismo che accompagna tutta la spiritualità appunto cristiana quindi l'idea del mondo che sta al di là e del mondo che sta al di qua che poi troviamo già prima in platone i sufi vedono questa idea dal camminare dal governare col conscio l'inconscio di due realtà che in qualche modo sono comunicanti questa idea del fatto che deve essere la razionalità dell'uomo a padroneggiare l'inconscio non a caso tu hai citato la danza il passo delle sabbie che è molto significativo ma torniamo ancora a muadib che cavalca il vermone è sempre quello il concetto cioè l'aspetto cosciente deve governare l'aspetto inconscio l'idea è proprio il mondo anche lì è tripartito c'è un mondo terreno c'è un alam al mital intermedio e poi c'è un alam al gaib pensate l'isana al gaib del film c'è un mondo ulteriore il protagonista deve immergersi in questo mondo di mezzo con la sua parte cosciente e saperla governare questo è l'essenza della magia dell'ermetismo che poi viene spesso traviata e trasformata in cose un po' stravaganti in realtà l'essenza per chi vuole leggerla in chiave psicoanalitica è proprio questa cioè quella del governare le energie sommerse l'inconscio tutto ciò che in qualche modo sappiamo di avere ma teniamo in un cantuccio spalancando quel cassetto ma al tempo stesso governando con la ragione ritorniamo al punto di partenza ritorniamo al discorso delle grandi paure e delle grandi dipendenze l'uomo deve fare i conti ci dice Herbert con l'IA con il muadib l'uomo forte però deve governarle non può lasciarsi trascinare quindi ancora una volta il passo delle sabbie è la soluzione a questi grandi problemi che invece altri uomini altri non fremen affidano appunto con la dipendenza poi appunto c'è anche una questione di ignoranza cioè se una persona di un altro pianeta lo butti lì non sa quella roba muore in un secondo quindi anche la cultura cioè l'idea di appunto di approfondire determinate cose cioè la ricerca assolutamente sì di fondo c'è proprio l'idea di una dimensione locale che diventa in realtà una saggezza cioè in Dune emerge proprio questa contrapposizione tra la sapienza alta e invece la pistis questo sapere pratico che però non deve essere disprezzato perché è il sapere che permette all'uomo di vivere a contatto con una determinata realtà e in un determinato modo nell'universo di Dune tutti utilizzano questi scudi questi scudi energetici invisibili su Dune attivare lo scudo significa morte certa perché lo scudo attira il verme i Fremen sono primitivi ma scelgono di essere primitivi perché sanno che questo primitivismo permette loro di vivere su quel pianeta tutti quegli altri ogni volta che si addentrano nel deserto muoiono lo vedono proprio i soldati dei Bautista che tutte le volte vengono massacrati male proprio perché in qualche modo c'è l'idea e qua di fondo ci sono anche temi come appunto il colonialismo il neocolonialismo esistono vie differenti a seconda dei contesti culturali è giusto essere occidentali in occidente ma non è giusto esserlo in oriente gli Stati Uniti che vanno via dall'Afghanistan non è quello sì assolutamente no è in ospitale è invivibile andiamo via cioè invece non è in ospitale sono tornati i talebani è come è come ci sono un sacco di evocazioni addirittura più ancora che l'Afghanistan pensate all'Iraq che è stato Frank Herbert nel 65 io non mi capacito di questa cosa nel 65 ma poi anche deserto cioè potevano solo la tundra proprio il deserto ma non solo il deserto l'antico testamento sì però adesso puoi ritornare perché l'Afghanistan Iraq Medio Oriente è sempre deserto ma non solo deserto qua c'è un problema di fondo che a me turba da quando iniziato a scrivere il libro e alla fine lo aggiro nel libro perché non so come gestirlo ma a meno di attribuire gli doti perfetti che Arrakis secondo molti è la deformazione di Iraq Arrakis ma questo potrebbe essere una roba stravagante che dico io su Arrakis c'è una catena montuosa che attraversano più volte i protagonisti quando fuggono nel deserto che è la catena di Abbania Abbania è una formazione è un luogo geografico che sta in Iraq ancora una volta quindi questa idea di questa culla della vita la Mesopotamia l'idea di Abbania proprio c'è un termine geografico che viene preso pari pari dalla carta dell'Ira che è ribaltata su Dune non può essere un caso non può essere un caso però dall'altra parte non riesco a vedere come sia possibile perché nel 65 l'Iraq non era al centro del mondo evidentemente l'unica lettura che posso dare e vi risparmio il fatto questa è veramente invece un caso però l'imperatore si chiama Shaddam questo è veramente un caso perché al tempo Saddam Hussein era proprio un piccolo rifugiato politico quindi no però quello che l'unica chiave di lettura che mi sono dato è questa Frank Herbert fa una grande analisi dei bisogni dell'uomo sa che sicuramente l'occidente nel 65 già inizia a dipendere dalle fonti energetiche nel 73 arriverà la prima grande crisi energetica ma intuisce che da quelle parti là potrebbe andare in scena qualche cosa come chi controlla la spezia il petrolio controlla l'universo l'OPEC perché la spezia è sì da un lato lo psichedelico ma dall'altro è anche proprio quella quella materia prima dell'economia è quello che ci serve per spostarci nella galassia e non è la benzina che abbiamo nelle macchine esatto la spezia è l'elemento essenziale per viaggiare per spostarsi la benzina chiaramente in quell'universo dove non c'è la tecnologia le cose funzionano in maniera un po' diversa perché il navigatore assume la spezia diventa prescente diventa in grado di predire la rotta e quindi guida le astronavi nello spazio esiste questa entità questa organizzazione che è la gilda spaziale che detiene il monopolio dei trasporti questo oltretutto è molto intrigante questo è molto evocativo perché tutti poi nel film non si intuisce così bene per spostarsi tutti devono fare affidamento alla gilda c'è questo monopolio dei trasporti senza Italo senza Italo sì esattamente esattamente l'ho visto venendo in qua quanto è drammatico il monopolio c'è anche la gilda in Italia a quanto pare però appunto su Arrakis c'è la risorsa che è alla base dello spostamento non c'è la tecnologia ma se ci fosse la tecnologia sarebbe petrolio e allora secondo me è lì che c'è l'intuizione sull'Iraq io non so se adesso qua andiamo a attribuire a Herbert capacità profetiche forse c'era anche la questione appunto della Mesopotamia come la culla della vita il tigre lo frate Ibla che era questa a proposito a proposito non è un caso perché io l'ho tenuto qua perché a casa un po' in vergogno se vengono ospiti però c'è questo libro che si chiama Il fungo sacro e la croce non so se l'hai mai sentito parlare sì che visto che stiamo parlando di Mesopotamia allora lo stringendo perché è una roba super complessa Gesù non è mai esistito in realtà il cristianesimo ha utilizzato la simbologia di Gesù Cristo per motivi che poi avrebbero portato queste persone a essere imprigionate ma Gesù è il simbolo della manita muscaria quindi questo fungo di questa sostanza che ti permette di accedere a stati di consapevolezza e di esperienze diverse e ha origine anche questo questo culto sempre nella Mesopotamia e questo è affascinante allora io da storico ovviamente respingo in pieno quella teoria ma per il solo fatto che le prove del Gesù storico qualsiasi cosa sia stata ma un tale che si chiamava Gesù in Palestina è sicuro è sicuro è sicuro perché ci sono veramente un incrocio di fonti tali per cui chissà se era esattamente quello che pensiamo ma sommando insieme francamente non dico impossibile ma Alessandro Barbero dice è improbabile sono d'accordo con lui è molto improbabile che si sia fatto uno sforzo del genere per concepire una figura che storicamente poi tutto sommato non so ecco avessero fatto uno sforzo del genere per dire che Elia era tornato in vita posso anche vederlo come mito ma perché concepire un falegname di Nazareth cioè questa idea del Gesù storico secondo me dal punto di vista del dibattito storico è conclamata ma questo proprio vale per il credente come per il non credente secondo me quel passaggio bisogna superarlo però l'idea del cosiddetto enteogeno cioè lo psichedelico ma che è appunto enteogeno teos en il dio interno risvegliare il dio che sta dentro l'uomo e quindi che in qualche modo lo psichedelico permetta all'uomo di attingere la propria interiorità questo chiaramente nell'immaginario della chiesa ufficiale è quanto di più alieno ma questo va non c'è bisogno di dirlo ecco però per quanto riguarda il mondo esoterico citavo prima proprio la figura di Abraxas dei primi due secoli ma in realtà tutto il mondo gnostico apocal il cosiddetto cristianesimo non mainstream attinge a piene mani a questi rituali enteogeni una cosa che mi ha sempre affascinato è il fatto che in qualche modo assumono assorbono delle sostanze si parla di questo pane del serpente non è ben chiaro di cosa si tratti ma non mi stupirei in tutte le tradizioni c'è il soma nei veda tra l'altro è molto interessante devo dire al di là della veridicità storica ma a me piace leggere libri anche che sono un po' borderline e questa metafora che fa del fungo che è praticamente un succo concentrato dello sperma di Dio che appunto quando piove è una gigantesca eiaculazione che feconda la madre terra infatti e quindi l'apertura appunto quindi della vagina terra che fa viene fecondata dalla pioggia e il seme proprio il concentrato è questo fungo che dentro ha una parte di Dio e quindi se tu poi lo riporti dentro vivi l'esperienza di Dio e questo assolutamente richiama a piene mani proprio i Vangeli Gnostici nei Vangeli Gnostici c'è questa idea del seme divino che cade dal cielo a terra nella profondità di questo mondo oscuro e deve essere ingerito per risvegliarsi quello che è tutto da capire è quanto l'elemento sia metaforico o pratico prima citavi insomma avvicinandoci facciamo la carrellata partiamo dall'India metà strada il ponte tra l'India e la Palestina è senz'altro la cultura persiana l'Iran nella Vesta è presente la Oma che è un'evoluzione proprio del Soma ed è una radice sacra e lo cito nel libro perché è la cosa che secondo me è più vicina alla spezia di Dune nasce dalla carcassa di un gigantesco mammifero che vive nei paesi vive nel deserto e questa droga sacra è quella che permette di raggiungere l'illuminazione di raggiungere lo spirituale di raggiungere il divino l'Aoma è proprio questo enteogeno sacro che permette di raggiungere di attraversare i i confini al tempo stesso il mondo persiano vede degli enteogeni buoni degli psichedelici buoni e degli psichedelici cattivi quindi chi segue il Dio buono Aura Mazda consuma un certo tipo di allucenogeno sacro questo Aoma non sappiamo cosa sia poi ci sono mille ipotesi spostandoci ancora verso l'occidente poi ci sono i famosi misteri di Eleusi con questa misteriosa bevanda costruita con una ricetta che non si è mai saputo cosa ci fosse dentro che ha la quale nell'Odisse invece ci sono i mangiatori di loto che appunto lì non sono positivi nel senso è una droga che annebbia completamente e che rende l'uomo poi schiavo perché lì entra forse in gioco già un certo tipo di razionalità greca Omero non è un caso se poi Omero è considerato il padre del mondo greco non è l'unico però viene fatto proprio a posteriori da tutto un certo tipo di immaginario che vede in Ulisse la figura razionale che domina i suoi istinti che non cede alle sirene la multiforme ingegni assolutamente e che non cede mai non cede mai a queste cose non cede a Circe non cede alle sirene non cede ai lotofagi quindi l'inconscio viene tenuto a bada viene arginato allora io direi che tra poco dobbiamo finire però dobbiamo assolutamente parlare di cinema perché non so come dire tu la gente magari non lo sa ma a te piace anche proprio il cinema cioè in questo libro quanto hai sofferto nel non poter parlare di cinema perché la la genesi di questo libro è un po' strano non è che cioè non è che tipo settimana scorsa sei dato il cinema e poi hai scritto 260 pagine di libro no questo è un libro che ha delle radici veramente profonde perché in realtà ho iniziato a scriverlo prima ancora la mia parte poi quella del professor gente è entrata in gioco dopo come anche la casa editrice è entrata in gioco dopo ma la mia parte è iniziata prima di Dune parte 1 di cinema lì c'era poco c'era il film l'abbiamo citato a un passant ma diciamolo bene nel 1984 è già uscito un Dune un Dune di David Lynch un Dune splendido a mio avviso come tutte le opere di Lynch ma vittima di tagli drammatici facciamo i nomi dai tagli drammatici dell'italiano De Laurentiis che ha ridotto fatto un po' a brandelli quello che era il piano originario poi uscito forse in un momento non così opportuno perché è vero che esce nel boom della fantascienza ma esce dopo Star Wars quindi rischia di passare come copia e quindi nel libro di cinema purtroppo c'è poco perché ho la versione di Lynch che a me piace tantissimo ma che è considerata in qualche modo un mostro imperfetto e c'è la versione di Villeneuve che personalmente adoro alla follia ma che nel momento della scrittura non è ancora presente te l'aspettavi un successo così clamoroso soprattutto di questa parte 2 me lo auguravo ma non me l'aspettavo per chi non lo sapesse Paolo Riberi poi c'è l'ultima domanda proprio quella a cui ci tengo più di tutte però diremo alla fine cioè tu vai al festival del cinema di Venezia scrivi anche di cinema ti faccio queste domande perché sei anche diciamo sì 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 adesso critico cinematografico è sempre una parola molto inflazionata però sì si può usare ecco cioè Villeneuve è riuscito a fare qualcosa di incredibile perché sta unendo la critica e come si diceva una volta la critica e il pubblico non è la prima volta per Villeneuve cioè già Arrival insomma assolutamente uno dei miei preferiti come registro io avevo un po' perso le speranze pur essendo un film di Villeneuve che ho venerato ma veramente venerato con Blade Runner Blade Runner 2049 secondo me è un capolavoro assoluto mi permetto di dire il bestemmione supremo secondo me meglio bravo se fosse arrivato prima questa qua è una clip perché questo è un bestemmione questo è proprio un bestemmione ma lo rivendico con orgoglio ritengo che se fosse uscito prima Blade Runner 2049 penso che il film di Ridley Scott arrivando dopo sarebbe stato visto come una versione un po' meno un po' imperfetta questo lo dico lo rivendico con orgoglio da grande cultore di Ridley Scott noi io Giovanni e Mario che non c'è quando dobbiamo parlare di Ridley Scott rimaniamo sempre con ancora adesso fa così ho visto Napoleone delle robe incredibili eppure dici però e gli è andato non so quanti milioni per fare Napoleone non so cifre abominevoli astronomiche solo perché lui è quello che ha fatto Blade Runner perché poi alla fine dai diciamocelo due dai dai consigliandomi anche Alien Alien è veramente qualcosa di devastante però assolutamente Ridley Scott ha dei chiaroscoli ecco in quel caso là Blade Runner 2049 piacque tantissimo alla critica a me fece impazzire però non ebbe riscontro nel pubblico vedo arrivare Dune e inizio a pensare secondo me con la saga di Dune può avere il grande riscatto secondo me questa è una saga che può connettersi anche perché c'è già la maledizione di Lynch lui ha un certo tipo di linguaggio Jodorowsky Lynch non c'è riuscito nessuno ma lui ha le carte giuste vedo Timotezio da me dico veramente ci siamo e poi succede quella cosuccia nel 2020 magari ne avete sentito parlare e quando in piena pandemia in un festival dimezzato dove veramente per riuscire a entrare in una sala ho fatto una fatica estrema perché c'era un posto sì uno no quindi l'ho visto in condizioni cioè l'ho prenotato alle tre di notte per avere il posto in sala pur avendo la credito stampa in quel momento ho detto vediamo questa parte 1 consapevoli che non uscirà la parte 2 cioè questo è un massacro annunciato però dai godiamoci questa esperienza il film mi è piaciuto subito tantissimo ma non ci speravo non ci credevo per me era condannato in partenza perché la qualità era altissima ma il momento a livello cinematografico era veramente negativo anche per elementi contingenti ricordiamoci che polemica dai apriamo un po' di polemica Warner Bros ha fatto di tutto per sabotarlo proprio secondo me si sono riuniti per settimane chiedendosi come distruggere Villeneuve del resto l'hanno già fatto con Snyder quindi a loro piace sabotare i loro talenti e infatti addirittura arrivano a rilasciarlo prima in televisione su HBO Max prima che nel cinema cioè è un caso più unico che raro di un film rilasciato autospoilerato in tv su una piattaforma streaming prima che questa è una cosa e ciò nonostante il film riesce a fare gli incassi che fa questo è incredibile perché secondo me Villeneuve ha fatto un mezzo miracolo e la potenza di questo film di questo mito sta anche lì perché veramente c'è stata una pianificazione a tavolino cioè HBO Max è una piattaforma che in Italia non c'è ma è l'equivalente in America di quello che può essere Netflix, Prime anche perché HBO è quella come dire o meglio distribuisce i più grandi capolavori in questo momento è quella tu pensa due settimane prima della uscita al cinema in un periodo di pandemia in cui tutti dicono state a casa state a casa è pericoloso questi lo rilasciano sullo schermo ma poi misurano qui veramente la patologia Warner decidono di misurare però il successo del film solo sulla base del botteghino ma come ciò nonostante riesce a avere successo al botteghino cioè questo fa veramente un mezzo miracolo quando siamo arrivati alla parte 2 io personalmente ci credevo ci credevo e quindi questo successo che sta riscuotendo secondo me è conseguenza di quel mezzo miracolo che è successo nel 2021 tra l'altro hanno girato parte 2 e parte 3 insieme quindi non dobbiamo aspettare altri tre anni no 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 parte 3 non è ancora confermata perché poi Warner hanno la logica da e invece lì è Avatar no è Avatar Avatar è stato girato 2 insieme quindi dobbiamo aspettare altri 3 anni tanto c'era la domanda su Avatar perché i Fremen con i come si chiamano con i Navi i Navi sono anche lì ma James Cameron ha ammesso proprio di aver attinto anche lui un altro di quelli che hanno attinto a piene mani all'universo di Dune proprio questa idea di questo popolo che in simbiosi con il suo stesso pianeta e combatte contro un invasore è uguale la stessa storia che viene raccontata con ambientazioni diverse è uno con una logica più tecnologica come quella di James Cameron no è interessante beh allora il film devo dire che è potente io non mi aspettavo nemmeno che facesse il 2 perché quando siamo andati io Giovanni e Mario siamo andati insieme a vedere il primo abbiamo detto beh questo film non arriva la seconda settimana di sale perché voglio dire è lento non succede un cazzo e non finisce niente cioè dici ma come potrebbe mai nell'epoca che stiamo vivendo avere successo però è accaduto cioè è un po' quando ieri ho visto il documentario di Jodorowsky mi ha spezzato il cuore perché ci sono tante cose che mi sono saltate in mente del tipo Jodorowsky genio incredibile hai aperto un portale dentro di te hai connesso delle idee hai fatto una roba pazzesca hai coinvolto i numeri uno del mondo non si è riuscito a portarlo al termine perché perché anche Jodorowsky ha una parte pragmatica che non è assolutamente in linea con la fattività delle cose è un grande teorico però poi nella messa a terra delle idee manca totalmente tant'è che anche nel documentario a un certo punto non so chi però dice ma è ovvio ma chi cazzo è che va alla Warner a dire ma c'è un film di dieci ore con gente strana tutta colorata ma no beh bravissimi gli hanno detto bravissimi ma non lo farà mai nessuno con un regista che ha fatto solo film off totali che andavano proiettati solo a mezzanotte cioè nessuno aveva il coraggio mentre invece Villeneuve è riuscito a fare qualcosa anche dal punto di vista in qualche modo non l'ho ancora capito dove è intercettato la pop culture questo film cioè secondo te dov'è è solo Zendaya e Timothee Chalamet no 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 o è quello che ci siamo detti fino adesso perché tutte queste tematiche in qualche modo stanno riaffiorando nella nostra contemporanea in una parola archetipo secondo me questo film attinge a degli archetipi a delle grandi dei grandi racconti che in qualche modo nel momento in cui uno guarda Dune sa cioè è scontato ma è scontato proprio perché sa questa cosa gli ricorda qualcosa che ha sempre saputo che era dentro di lui in un mondo in cui a livello cinematografico si cerca il colpo di scena innovativo l'elemento trasformativo Dune torna indietro fa proprio un indietro tutta e va all'archetipo alla narrazione archetipale all'idea di queste grandi messaggi grandi temi antichi quanto l'uomo che ci hanno accompagnato e non sappiamo bene da dove arrivi che in qualche modo fin dalle fiabe fin dai primi racconti parlavamo prima del bacio del risveglio del dormiente del sono temi appunto archetipali e questo secondo me è stato il grande fattore l'altro fattore cinematograficamente è stata la crisi del cinecomic il genere del cinefumetto se questo film fosse uscito in contemporanea con gli Avengers sarebbe stato fatto a pezzi con Endgame sì esatto invece arriva in un momento in cui c'è una fase di stanca e emerge nella terra di nessuno insisto sempre appunto Lynch secondo me è uscito nel peggior momento possibile perché esce nell'età d'oro della fantascienza ma quando la fantascienza ha già detto tanto che sono 77 il primo Star Wars 84 85 no 80 esatto 80 al secondo 83 il terzo Star Wars il torno del Jedi 84 quando Star Wars è già un oggetto compiuto è tanto d'autore cioè la prima parte del film non succede un cazzo ed è un ritmo bassissimo tant'è scusa poi ti faccio parlare l'altro giorno mi è capitato un reel dove diceva i quattro film preferiti di Villeneuve cioè Odissea 2001 Apocalypse Now Persona di Bergman che voglio dire è il quarto non me lo ricordo però cioè è un regista è un autore cioè ha fatto un film d'autore nel senso secondo me Villeneuve è il compromesso migliore il suo stile il suo modo perché è riuscito a condensare certe tematiche un certo sacro però attraverso la sua tecnica che è molto meticolosa non è estrosa è proprio cioè io ho visto anche i i making of i making of no? cazzo cioè lui è uno ragazzi ignorante cioè voleva rifare quello lui ha voluto ricreare che sei signorante cioè nel senso che tiene duro quella lina lì lui ha voluto ricreare gli stessi scenari reali dell'uno cioè li hanno ricostruiti mentre c'era volendo c'erano delle strade digitali però lui ha detto no il digitale no perché comunque sia per avere anche quell'atmosfera ecco lui è proprio un meticoloso anche dell'atmosfera della spettacolarità dell'immagine però ci arriva attraverso una in fondo una razionalità ecco forse Villeneuve è il miglior compromesso fra sacro e umano razionale e tecnico per quello che gli hanno dato i soldi a lui e non a Iodorovsky secondo me i prodromi secondo me i prodromi c'erano in Arrival cioè lui fa un film in cui gli esseri umani devono trovare un modo per comunicare con una specie di pietra che poi è una navicella che arriva questi non e non c'è e il problema è trovare il linguaggio neanche parliamo due robe diverse trovare proprio il modo qual è il mezzo per comunicare quindi anche lì sostanzialmente non succede un cazzo però è assurdo e secondo me lì c'è tanto poi di quello che in Dune uno e due speriamo oltre succederà è la guerra dei mondi in chiave linguistica esatto Arrival è pazzesco se non l'avete visto guardatelo secondo me però è un'opinione mia quindi la vendo come tale secondo me il futuro è proprio quello del far incontrare questi due mondi il genere autoriale puro e il genere pop certo e ci ha già provato e l'ha fatto molto bene Christopher Nolan secondo me Villeneuve in questo caso ed è qua la mia opinione riesce a essere superiore anche secondo me perché Nolan rompe il cazzo ragazzi a Oppenheimer ma come ti spieghi è inguardabile ragazzi è un blob senza senso di mille autori non c'è cuore non c'è cuore cioè tu non ti medesimi con nessuno dei personaggi non empatizzi con nessuno ma perché è una storia reale è quello secondo me cioè io arrivo allora io devo dire ammetto avevo letto già la biografia cioè io avevo letto Prometheus che è il libro appunto che è un sì forse anche qualche pagina in più del primo è un blocco così ed essendo storia ci sono effettivamente tutta una serie di corsi e ricorsi di persone che rispuntano di interessi e cose che neanche in tre ore di film poteva comanzare ma il cinema non deve fare il documentario però lui istituto luce Cristo è un fungo Cristo sei un fungo secondo me lui è riuscito a farlo molto bene in quello lì ma non lo so a me sembra istituto luce montato male a me lui spiace ma al suo meglio secondo me lo raggiunge quando non dico va nella fantasia ma va nella costruzione del labirinto penso a Inception e Interstellar secondo me lì non avendo il copione da 600 pagine al suo meglio a me Oppenheimer è piaciuto però quegli altri due mi sono piaciuti di più secondo me lui è a casa sua quando fa quel lavoro sì sì quello sì Bill Neuvi invece è l'unico in questo momento che riesce a fare la fantascienza riesce a fare adattare la grande fantascienza a renderla pop e autoriale al tempo stesso e poi secondo me c'è la marcia in più sì perché per esempio anche un difetto fra virgolette uscendo da Dune parte due soprattutto uno dice cavoli ma questo film qua doveva durare sei ore però è stato anche molto bravo a ridurlo per il botteghino perché è necessario il finale è un po' tirato va tutto un po' troppo veloce però lo comprendi perché non poteva fare altrimenti cioè è proprio il compromesso talmente compromesso ma in positivo che ti permette poi di elevarti è come tipo dici ci mette un'ora e mezza per accendere il motore e poi fa da A B in 5 minuti dici vabbè tutto ha dovuto tagliare alcune scene io ho intraletto qualcosa ma veramente di doloroso al ritorno di Tufira Watt è stato tagliato c'è un attore importantissimo Tim Blake Nelson quello per capirci Rorschach in Watchmen che doveva interpretare non si sa chi verosimilmente il conte Asimir Fenring che ha girato una scena lui dice deve essere potentissima è stata tagliata infatti sta imprecando ma in senso buono perché dice sono comunque grato però con la lacrimuccia mi hanno tagliato quindi purtroppo ha dovuto fare dei compromessi devastanti questo sì però il risultato insisto io voglio la versione da 10 ore anche di Villeneuve tra l'altro oggi è uscito un articolo che diceva che i cinema sono morti ma gli IMAX no cioè nel senso che effettivamente non so se sei d'accordo magari si può fare anche un film intimista all'IMAX magari qualcuno lo farà però l'idea di dire vabbè che cazzo me ne frega io quando vado al cinema voglio vivere un'esperienza perché sempre essendoci la narrazione però dai oramai è un po' 50-50 cioè è come vedere un concerto di Hans Zimmer ogni tanto ho detto ma questo è un concerto di Hans Zimmer con delle immagini che passa soprattutto l'uno dici vabbè ma questo è Hans Zimmer con delle sai il salvaschermo del computer ogni tanto c'è un ragazzo figo che va su cavalca un verme cioè la musica è diventata al 50% oramai del film sì sì io penso che all'Oscar potranno candidare Hans Zimmer come miglior attore protagonista di questo film non so se ci arriverà al prossimo anno questo qua perché è uscito in un periodo in cui non è per la selezione degli Oscar mi sa di no sì sì esatto cioè può essere per l'anno prossimo ma non so se però è a rischio più che altro rischio cioè tecnicamente secondo me è candidabile però c'è il problema che è uscito nel peggior momento possibile però ragazzi quando sei al cinema veramente ci sono c'è questo anche ti tiene così e sei proprio attaccato e posso dire secondo me è ribadire che alla fine non è tanto il cinema sopravvive al cinema sopravvive la qualità cioè cazzo se c'è un film che merita di vedere al cinema lo guarda al cinema e poi che sia ora io non sono d'accordo con Scorsese per quanto sia ovviamente sulla santità però sulla polemica con i supereroi eccetera quella secondo me è veramente strumentale un po' una puttanata però se ci sono certi film che vanno visti al cinema altri ce li si può vedere a casa Dune è un film che devi andare a vedere al cinema punto sì poi allora mi domando se in realtà c'è tipo Anatomy Dunshoot quel film che è candidato all'Oscar francese è una caduta cioè che è un film l'opposto di Dune sono solo esseri umani inquadrati da vicino che parlano anche quello è un effetto speciale cioè la sfumatura il rumorino della saliva nella bocca il tirare il tirare su col naso cioè perché anche quello non posso vederlo in un mega schermo cioè non è tanto secondo me l'effetto speciale esatto dobbiamo uscire da questa logica già l'esperienza cinema cioè l'andarci fisicamente l'essere in questo luogo che è un tempio alla fine ecco andare al cinema andare in un tempio a parte per quei cinema dove vendono ancora pop con che io Dune me lo sono visto con uno che maneggiava con sta plastichina no assolutamente l'esperienza della sala secondo me è qualcosa di magico di fantastico io lo dico frequentando anche appunto il festival di Venezia vedere certe cose nella sala d'arsena di Venezia è qualcosa di straordinario è un'altra roba io purtroppo vivo la brutta in questo aspetto mi piace tantissimo la zona in cui vivo però vivo la brutta dimensione della provincia perché purtroppo in provincia di Cuneo l'esperienza cinematografica è veramente cioè le sale sono piccole limitate infatti ho il fratello che sta a Torino prendo e faccio 60-70 chilometri per andare a vedere le cose io Dune sono andato a vedere da Torino però personalmente l'esperienza cinematografica non potrà mai sostituire l'esperienza casalinga ma chissà chissà se succederà come con i libri che adesso è nata sta cosa che i libri i ragazzi soprattutto dalla gen Z comprano i libri cartacei quando io avevo la loro età mai avresti immaginato che queste cose fossero sopravvissute no? perché dice vabbè ma è ovvio è tutto digitale vedo un film digitale figurati il libro c'è il Kindle chissà se anche il cinema avrà un ritorno c'è la minaccia Apple Vision chissà il motivo è questo guarda interessante io lo sapevo l'avevo detto anche forse in qualche puntata qua perché i ragazzi comprano questo? perché è un cazzo di contenuto ieri quando ho fatto la storia di Segreti di Dune che ti ho taggato un botto di cuoricini perché? perché c'è il libro fisico se avessi fatto uno screenshot dell'ebook ma che cazzo che mi diceva il like è un bellissimo contenuto anche andare al cinema può diventare un contenuto social perché lì c'è l'esperienza sul libro c'è il feticcio poi del libro qua ci sarebbe anche là da dire tantissimo ma a proposito delle sale io è di Oppenheimer io volevo andare a vedere in IMAX eccetera eccetera ma in realtà tipo in Italia c'è una sala fuori Milano Rimini forse no? no no c'è Melzo l'Arcadia di Melzo ah ecco ma in Europa sono tipo dodici pochissime cioè una roba pazzesca il problema è che l'esperienza è completamente diversa io ricordo ero in vacanza in Inghilterra per cui ho queste malattie mentali per cui anche in vacanza no allora stavo uscendo il ritorno il terzo della trilogia di Nolan legata a Batman quella veramente clamorosa il ritorno del Cavaliere Oscuro film secondo me esageratamente sottovalutato secondo me sono d'accordissimo splendido c'è una critica alla società lì pazzesca devastante quello è il film più politico degli ultimi sono d'accordissimo e l'ho visto in IMAX perché ero a Londra ho deciso basta ho detto vabbè vacanza non vacanza voglio vederlo qua mi sono veramente resronto poi rivedendolo dopo che quell'esperienza là è qualcosa di totalmente diverso rispetto a tutto ciò che è stato dopo quindi l'esperienza diretta guardate io ho Spotify mi piace tantissimo ascoltare la musica vado in macchina e ascolto musica ok ma questo non sostituisce minimamente l'esperienza del concerto no secondo me questa lotta tra lo streaming e il cinema è figlia proprio di una cattiva concezione di fondo sono due cose diverse che devono convivere ma io d'una me lo riguarderò a casa un sacco di volte però vederlo la prima in sala per me è sacco sì poi adesso sapete quella cosa lì la MSG Arena a Las Vegas è una cosa incredibile assolutamente ah la Sphere mi è quali deve essere una roba ecco un concerto ora c'erano quelli degli U2 insomma un concerto li deve essere però vedete che stiamo andando in direzioni diverse da quello che si aspettava per esempio questa cosa della questa maschera dell'Apple sicuramente non succederà un cazzo infatti io ho shortato Apple lo dico a tutti shortate Apple perché io ho già shortata sono già in guadagno ma quando ho visto quella roba ho detto no ma cos'è ma nessuno mai andrà in giro con quella maschera da sci piuttosto lo Sphere sì cazzo lo Sphere ragazzi vedrete che in tutte le città le capitali ci sarà uno Sphere perché la gente ha capito che un conto è un surrogato e un conto è l'esperienza in prima persona e soprattutto l'esperienza orizzontale cioè condivisa con Hazel perché l'uomo sta cominciando gli sta cominciando a puzzare questa verticalità continua cioè sempre essere soli davanti a un monitor invece condividere l'esperienza appunto in un concerto è tutta un'altra cosa qualche tempo fa hanno ridato in sala sia il primo che il secondo Alien io sono andato con due miei carissimi amici ma addirittura appunto questo mio amico che tornava dalle ferie infatti ho detto mai più no è partito in quinta perché l'idea è proprio stata l'esperienza condivisa partiamo andiamo insieme mangiamoci qualcosa non mi ricordo se prima o dopo comunque siamo andati insieme a mangiare poi siamo andati al cinema è stata secondo me un'esperienza splendida adesso non voglio contestualizzarla come al solito nel post covid però per me è stato veramente bello condividere l'esperienza e poi andare in sala ed è una cosa che faccio spesso e che mi piace molto allora abbiamo superato le due ore la domanda delle domande è questa allora non tutti sanno che cioè tu hai un'altra vita nel senso che tu ho visto che su instagram ti sei laureato di nuovo quante lauree hai? allora contiamo le tre più due le conto unite ho allora lettere classiche ho triennio e biennio economia triennio biennio e abilitazione da dottore commercialista e adesso ho conseguito una triennale in diritto ma ti rendico ma tu sei tu l'eletto a tre adesso sei tu cazzo ma guidaci tu ma come cazzo fai a scrivere mille saggi a studiare avere tre lauree una fidanzata carinissima che ho visto sui tuoi social come fai? ma è proprio come è la gestione della tua giornata e poi hai anche un lavoro scusate mi sono dimenticato che lavoro io sono funzionario pubblico e oltre a fare funzionario faccio anche giornalista ecco come si fa a fare tutte queste cose insieme fatte bene tra l'altro perché ripeto fatte bene cioè questo libro non è un hobby o hai trovato la spezia diciamo la verità esatto no perché poi per fare un libro così bisogna studiare tantissimo è un libro importantissimo i segreti di Dune non è come dire come va di moda adesso è filologia esatto racconto le mie esperienze del mio viaggio in India quando ho conosciuto questo santone grazie al cazzo questo lo sa come abbiamo detto nell'ultima puntata Emanuel Carrer ce n'è uno tutti gli altri sono nessuno cioè fare un libro così c'è un condensato di ore e ore e ore vita anche qua di studi come si fa come fai a gestire tutte queste cose dimmelo io personalmente sono un po' tendo all'autismo e porto all'autismo le persone che stanno con me quindi cerco di ritagliare un piccolo momento non tanto ma tutti i giorni la costanza effettivamente nella bibliografia dei segreti di Dune quando l'ho scritta mi sono reso conto che qui c'è sfuggita di mano qualcosa perché ci sono 200 titoli ma io ve lo giuro i 200 titoli li ho letti cioè tutto ciò l'ho citato l'ho preso da una fonte sono la biblioteca di Cuneo penso che a un certo punto mi odiasse continuava ad arrivare il fanatico di Dune che pescava roba non so quanta gente ci sia alla biblioteca di Cuneo cioè non so è vissuta è abbastanza vissuta è abbastanza vissuta però la sportellista mi odiava a un certo punto non è vero però dico perché effettivamente non so io comunque anche il mio approccio all'ambito umanistico viene da studi filologici cioè infatti i due mondi della mia vita non sono in conflitto perché ho un approccio abbastanza freddo analitico a queste cose cioè il fatto del diritto dell'economia funziona molto bene anche in questo perché a me piace non sarei in grado di scrivere un romanzo a me piace studiare e analizzare proprio nel senso di spezzettare il problema esaminarlo e guardare i dettagli e infatti appunto sono andato a cercarmi la pagina esatta della ricorrenza della tal frase sì mi ricordo che lo dice là ma vado a cercarmelo vado a trovare la citazione esatta eccetera è una forma di autismo come faccio non penso di fare niente di speciale ma proprio assolutamente no però trovo che avere costanza e metodo aiuta io cerco di ritagliare sia il giorno che ne ho voglia che il giorno che non ne ho voglia so benissimo che la pagina e mezza che scrivo il giorno che non ne ho voglia il giorno che invece ho l'entusiasmo la ritoccherò completamente perché non nasce bene però avere una cadenza aiuta in qualche modo permette di dare continuità mentre invece l'idea di mettermi il weekend e fare la full immersion e scrivere 30 pagine secondo me è deleteria soprattutto nell'ambito saggistico nell'ambito della narrativa non lo so ma lo capisco posso immaginare e anche nell'ambito del rapporto con la tua fidanzata sì decisamente ma qua entra in gioco un discorso di santità proprio di santità terrena sua ovviamente veramente va bene cessit sì decisamente decisamente quindi interessante e che cosa fai quando non hai voglia e invece parti a scrivere hai dei trucchetti per motivarti per dire dunque sì infatti allora il bello della saggistica è questo io parto e ho un'ossatura allora ho la fortuna di trattare argomenti molto suggestivi molto interessanti se non ho proprio voglia di parlare non so infatti ogni tanto faccio dei lavori in parallelo dico Dune è uscito mentre scrivevo di Matrix nei periodi in cui non avevo voglia di fare una cosa ne facevo un'altra ma sempre nell'ambito progettuale a me piace lavorare per progetti darmi delle idee in questo momento sto vabbè ho appena consegnato quel saggio di cui ci siamo detti prima che è top spoiler ma nel frattempo ne sto lavorando altri tre quattro non vado in parallelo buttando le cose a cavolo ma il giorno che non ho voglia di fare una cosa lavoro un altro progetto che porto a termine cerco sempre di non buttare le cose ma fare cose finalizzate ok quindi porti avanti diversi saggi in simultanea a seconda del mood del giorno ne attacchi uno ne attacchi un altro esatto poi c'è anche tutto il filone della lettura perché per scrivere un saggio così devo leggere 200 cose quante ore dormi a notte tu? pochissime questo è il dato è il dato però non mi sembra che ne patisci tipo quante? ma dipende tendo a dormirne molto poche durante la settimana arrivo alle 5 ore 6 ore poi nel fine settimana riposo di più quindi ho una modulazione però tendenzialmente devo ma allora ho un picco di produttività notturna io me ne sono reso conto già quando facevo l'università c'era la gente che studiava di notte perché era disperata no no io studiavo di notte perché la cosa funzionava di giorno stavo tranquillo me ne uscivo con gli amici e poi la sera studiavo perché avevo il picco di produttività non so a livello fisiologico funziona così e quindi per me è bene scrivere di notte ed è benissimo andare al lavoro di giorno perché di giorno come dire ho un certo tipo di attenzione molto alta ma ho bassa creatività ho bassi input di creazione ex novo e invece in notturna è lì che ho come dire questo picco fantastico veramente complimenti veramente tanto 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 grazie Paolo di essere tornato e ci rivediamo per il prossimo saggio che uscirà sicuramente è sempre un piacere averti qua e that's it con noi c'era Giuseppe Giovanni grazie di cuore è stato veramente splendido esperienza veramente fantastica come sempre entusiasta grazie Paolo complimenti per tutti per tutto e per tutti i segreti di Dune di Paolo Riberi non so se vuoi essere seguito sui social sì sì assolutamente mi fa piacere dove ti troviamo su Instagram Facebook e Instagram Facebook e Instagram non riesco a fare il passaggio TikTok non ce la faccio non ce la faccio e questo ti fa onore i segreti di Dune Paolo Riberi e salutiamo anche Giancarlo Genta questo era il Bazzar Atomico ciao